Questo è quel video che si fa alla fine ma che in realtà si mette all'inizio dove si può finalmente fare una panoramica del corso e effettivamente fa vedere dove trova il materiale, cosa serve, come seguire il corso. Partiamo dal fatto che qualsiasi cosa dica, estensioni nomini, finestra vi faccia vedere, nome io dica, troverete tutti i link di queste cose sotto nella descrizione. Punto 2, facciamo subito una panoramica veloce del corso, abbiamo tre macro sezioni, ad ogni file non corrisponde una singola lezione, alcuni sì, sono una singola lezione, altre sono lezioni che vanno a toccare un unico argomento e quindi sono accortate in un unico file. Abbiamo la parte introduttiva in cui andiamo a vedere tutti i singoli concetti che ruotano intorno a TypeScript, che cos'è, quando si usa, soprattutto che cosa non è e quando uno deve usarlo e quando uno può anche non usarlo. Quindi saremo molto onesti e faremo una panoramica per vedere a che cosa ci serve TypeScript. Insomma, odoreremo un pochino TypeScript. Nella parte 2, che ho chiamato con molta fantasia basi, andremo un po' a vedere tutti quei mattoncini fondamentali che fanno parte dell'ecosistema di TypeScript e vedremo in che case si usano, qual è il loro scopo, a che cosa servono, come si costruiscono e soprattutto quando funzionano in maniera stupida e a cosa dobbiamo stare attenti. Dopodiché, dopo questa grande conoscenza che avremmo ottenuto, andremo nella parte che ho chiamato RealTS, in cui, grazie a questi piccoli blocchetti, andremo ad affrontare argomenti un pochino più corposi, come le classi a strati, in generale le classi, i generics, il narrow, insomma, argomenti un pochino più complessi per i quali abbiamo bisogno appunto di conoscere le vali. Il tutto, il tutto fatto simulando quello che, ecco perché c'è questo nome geniale, il tutto appunto fatto configurando quello che è un progetto di TypeScript base, facendolo funzionare come effettivamente funzionerebbe generalmente un progetto configurato in TypeScript. Questo è per quanto riguarda la panoramica del corso. Domanda numero uno che mi viene sempre fatta è che estensioni uso? Allora, per quello che riguarda questo corso, delle cose che vedrete, vabbè, c'è il tema che lo dico è Dracula, quindi questo è il tema, qualche volta vedrete appunto alcuni script che mi vengono suggeriti e questo è il mio amico Copilot e altre cose incredibili, vabbè, userò Live Server un minuto, ma tanto nella lezione vi farò vedere come l'utilizzo, le mie iconcine sono Material Icon Team e poi abbiamo Pricker per quando vado a salvare lui format in maniera incredibile da solo e poi vedrete, vabbè, questo serve a rendere un pochino più leggibili gli errori di TypeScript, ma per quello che noi andremo a vedere effettivamente in questo corso non sono errori così drastici, impossibili da necessitare questa estensione. Il resto sono estensioni che uso nel mio Day by Day. E ora passiamo a che cosa serva per seguire questo corsicino. Node. Node che cos'è? È un environment di JavaScript a runtime che lo trasforma effettivamente in un linguaggio di programmazione e ci permette di eseguire comandi come con ogni altro linguaggio di programmazione. Questo ci servirà per installare TypeScript appunto per lanciare, volendo, anche Live Server dal terminale. Node comunque, senza di lui, non si va da nessuna parte. Punto 2. A questo link che troverete sempre in descrizione trovate quello che è il videocorso completo con i singoli file, le singole lezioni, potete appunto andarlo a clonare oppure potete andarlo a scaricare. Se voleste clonarlo vi ricordo di andare a installare quello che è Git. Con Git potrete clonarlo e anche poi andarlo a forcarlo, portarlo sulla vostra repo, insomma tutte quelle prassi che si fanno quando si vogliono clonare i progetti di altri developer. Lato personale, questa facciazza sono io. Se volete, non so, seguirmi, scrivere un messaggio o qualsiasi cosa, mi trovate qua, io vi rispondo. Sono gentile, lo prometto. Questo è invece il nostro canale in cui abbiamo tutta un'altra serie di tutorial anche sul videomaking perché insieme ad altre persone bravissime teniamo anche corsi e facciamo video anche di videomaking. Ci potete seguire, ci sono tutti altri corsi. E questo è appunto il nostro sito con quelli che sono gli altri corsi che noi offriamo, quelli che sono gratuiti e altri corsi che uno può seguire tramite noi. Sono tutti corsi professionali e soprattutto da qui potete ottenere dei coupon che vi permettono di acquistare i corsi su Udemy. Ovviamente io non posso comprare il mio corso da solo, però ottenete degli sconti che vi permettono di acquistarli a dei prezzi vantaggiosi e non dovrebbe rimanere più niente. Quindi buon proseguimento per il resto del corso. Partiamo però dalla prima domanda che è effettivamente che cosa sia TypeScript. TypeScript diciamo che per definizioni si utilizzano due definizioni principali che sono static type checker e javascript superset che di per sé sembra non vogliono dire nulla ma è più semplice dire che cose effettivamente non vogliono dire perché TypeScript non è un linguaggio nuovo e non si tratta di reinventare in nessun modo javascript. Non aspettate di trovare alcuna nuova feature all'interno di TypeScript rispetto a javascript. Non aggiunge assolutamente nulla. Ok sì, è un super set. Ma cosa vuol dire? Sicuramente non vuol dire che otteniamo qualcosa in più come stavamo dicendo. Anzi, non otteniamo proprio nulla. Non ci sono più callback, non c'è nessuna feature nuova, non c'è nessun strumento aggiuntivo rispetto a javascript, non c'è nessun modo nuovo di scrivere le funzioni, non c'è niente di niente di nuovo. Si può tutto riassumere con quello che è una parola chiave, l'unica forza parola chiave che davvero serve in TypeScript ed è Type Safety. Andremo subito a vedere un esempio pratico cosa vuol dire Type Safety. Diciamo che il goal principale di quello che è TypeScript è di andare a rendere il nostro codice meno prono ad errore, quindi andare ad evitare prima che il codice venga compilato il fatto di ottenere degli errori. Questo perché io scriverò in TypeScript ma poi tutto quanto verrà compilato direttamente in JavaScript. E questo cosa vuol dire? Beh, semplicemente quando io lavoro in JavaScript io posso scrivere esattamente quello che voglio, ma l'errore si noterà solo durante la compilazione del codice. Quindi io scrivo quello che voglio e poi l'errore me lo trovo poi in console. Nel caso magari di un'app, la mia app crasha nel momento in cui l'errore viene generato. E questo cosa vuol dire? Beh, che io in JavaScript quando lavoro e scrivo codice posso veramente scrivere il peggio codice, ma poi l'errore effettivamente risulterà solo una volta che il codice viene effettivamente compilato. Quindi scriverò la mia boiata, una volta che l'utente utilizzerà la mia app, il mio sito, o quello che io voglio che ho scritto in JavaScript, solo il momento in cui l'errore effettivamente si verificherà, otterrò o l'errore in console o nel peggiorare dei casi la mia app si spaccherà direttamente in proto. Quindi non c'è un modo in cui io con JavaScript posso accorgermi che c'è un errore prima di compilare il codice. Ecco, quello che va a risolvere TypeScript è proprio l'andare a controllare che non vi siano errori prima di andare ad eseguire il codice. E questo ci porterà a scrivere codice molto più pulito, più performante, soprattutto più sicuro. Ma andiamo a fare un esempio pratico. Molto banalmente ci sposteremo in questa incredibile tab. Ci apriamo la nostra pazzesca console. Io mi porto di qua. La nostra pazzesca console. E cosa vuol dire Type Safety, ad esempio? Beh, che io non dovrei... Cioè, in realtà in JavaScript posso farlo. Però io non dovrei poter fare questo tipo di operazioni perché sicuramente portano a un errore. Io non ho la certezza del tipo di dato con cui sto lavorando. Quindi se ci fosse un errore, io mi accorgerò di questo errore solo una volta che il codice viene compilato e 2 più 2 fa 22, che è una cosa che non deve poter succedere. Cioè, io voglio andare a svolgere le operazioni matematiche solo quando questi elementi sono due numeri. Oppure voglio andare a concatenare due stringhe solo quando questi due elementi sono delle stringhe. Voglio avere il controllo su di questo. Un'altra cosa che non voglio che succeda, magari, è che ad esempio 2 più null. In questo caso farà 2, ma se ad esempio il valore a cui volessi sommare non arrivasse come null, ma arrivasse come undefined, più undefined, va a fare none. E questo ovviamente spaccherebbe completamente ogni mia applicazione, quello che si verificasse. Ecco, io in JavaScript non ho nessun modo per andare a prevedere, scrivendo il codice, che vada a verificarsi questa situazione. che effettivamente vanno tutte quante gestite, ma in JavaScript se io non mi ricordo, non ci penso, non ci faccio caso, automaticamente, se andasse a scrivere ad esempio A più B, non c'è niente che mi impedisce di andare a eseguire questo e si potrà verificare uno di questi casi a prescindere da che io vada a gestirlo oppure no. E il compito di TypeScript è proprio questo, quindi aiutarci a fare tutti i controlli necessari per far sì che noi otteniamo realisticamente l'operazione che desideriamo. O comunque ricordarci di andare a fare tutti i controlli, ma lo vedremo nel dettaglio nelle prossime lezioni. E quindi nel concreto che cosa fa TypeScript allora? Diciamo che TypeScript ci aiuta a ottenere dei suggerimenti mentre scriviamo il codice dicendoci che probabilmente potrebbe non funzionare, oppure probabilmente potremmo trovarci di fronte a questa situazione da noi inaspettata. È un mito da sfatare sicuramente quello che è TypeScript ci permette di scrivere meno codice perché ce lo fa scrivere ottimizzato e quindi ne scriveremo molti di meno. Invece non è assolutamente così. Ci porterà a scrivere più codice, molto probabilmente, una funzione che magari normalmente in JavaScript potrebbe essere di 3-4 righe, in TypeScript magari diventa di 7-8, perché ci va a aiutare a prevedere possibili situazioni molto molto scomode. Ma di per sé come funziona? Beh, quello che succede effettivamente dietro le quinte è che noi andremo a scrivere in TypeScript, quindi avremo dei file che saranno .ts, nel caso di React saranno .tsx, e questi file, il codice che noi scriveremo in TypeScript, poi verrà transpilato, transpiled, diciamo in questo momento possiamo tradurre in maniera errata in convertito in codice già alla script che poi verrà eseguito dal nostro browser o dal nostro comunque programma. E quindi questo di per sé fa di TypeScript assolutamente non un linguaggio ma un developer tool. Ma andiamo a vedere effettivamente questo cosa vuol dire. Ci spostiamo un attimo nel nostro playground, e questo playground è semplicemente un logo in cui si può scrivere tranquillamente del TypeScript, che ci verrà transpilato, compilato, convertito direttamente in JavaScript. e come potete vedere non cambierà assolutamente nulla. Se io andassi a dire const user che sia un oggetto e vado a dire che ha nome Ugo e age di 12 anni, se io vado a provare ad accedere a quello che è user const mail che è uguale a user dot mail, ecco che io ottengo questa int che mi dice che la proprietà mail non esiste su quello che è l'oggetto user. Però come vedete poi nella compilazione di per sé niente mi impedisce di andare avanti. Se io lanciassi run, il codice viene eseguito e effettivamente non ottengo nessun problema. Se io console logassi mi beccarei un undefined e tutto sarebbe finito lì. In JavaScript invece non mi beccarei assolutamente nessun errore. Quindi questo cosa vuol dire che nel mentre ci aiuta e ci segnate gli errori che potrebbero pervenire in compilazione, una cosa che non fa è essere assolutamente magico. Se vi provassimo a riproporre quello che è l'esempio che abbiamo fatto prima, quindi number1 che sia uguale a, diciamo, 3 e sotto avessi const number2 che è uguale a 3, io quello che vado a dire è che const sum è uguale a number1 più number2. Come vedete non viene segnalato nessun errore perché giustamente è un'operazione che io posso andare a fare. Se console logassi poi direttamente sum, quindi la mia somma è rannassi il codice, viene transpilato ed eseguito poi dal browser e ottengo 33 senza nessun errore. Quindi questo mi dimostra che TypeScript non è magico, ok? E' uno strumento che ci viene dato a noi sviluppatori e poi siamo noi a dover appunto gestirlo nella maniera corretta. La soluzione qua è andare a dire che sum è di tipo number e a questo punto, poi noi vedremo cosa vuol dire lavorare con i tipi, ci viene detto che il dollar di stringa non è assegnabile al numero. Nonostante io qua comunque, come vedete, ho un errore. Se io comunque andassi a eseguire il codice, comunque non è che vengo fermato da TypeScript o da qualcuno, viene transpilato e effettivamente poi compilato e ottengo lo stesso risultato. Quindi non è che mi impedisce di farlo. Tutto quanto funziona, campionina, poi il codice viene transpilato e convertito in JavaScript ed eseguito. Presente o no alcun avviso da TypeScript, ok? È solo un check preventivo che viene fatto mentre scriviamo codice, ma non ha nessun effetto concreto sulla compilazione del codice. Ora, prima di andare avanti con le spiegazioni e le lezioni, è bene andare a spiegare come possiamo andare a installare sulla nostra macchina TypeScript e iniziare a scrivere il codice, effettivamente in un nostro ambiente su cui abbiamo il controllo. E quale è il miglior modo per farlo al momento che mentre siamo sul sito ufficiale di TypeScript, che è e sarà la nostra guida assoluta durante questo nostro corso. Se ci andiamo a spostare nella home del nostro sito di TypeScript, ci troviamo davanti al fatto che ci dice di provare TypeScript adesso online oppure andarlo a installare attraverso NPM. Andiamo a seguire la doc e direttamente nella doc possiamo trovare sotto la voce di download tutti i modi che abbiamo per andare a installarlo. Tra l'altro, cosa interessante, per ricordarci che è un developer tool, quando lo andiamo a installare dobbiamo salvarlo come dev tool appunto. Quindi la prima cosa che possiamo fare per andarlo a installare è aprire quello che è il nostro terminale. Questo terminale è la prima cosa che dobbiamo fare, quella di controllare di avere Node installato. Poiché nel caso non avessimo Node installato è necessario andare a installare Node. Vi basterà scrivere Node e andare poi a downloadare quella che è la versione stabile. Potete anche downloadare quella corrente, ma io consiglio sempre di andare a installare quella che è stabile. Una volta ottenuto accesso a Node, quello che dobbiamo fare secondo la doc è andare a installare quello che è TypeScript. Io aggiungo sudo perché servono i permessi da amministratore. Utilizziamo la flag G per dire che vogliamo installarlo su tutta la nostra macchina. Andiamo a installarlo, io ce l'ho già installato quindi ci ho messo un millisecondo. Ovviamente voi magari ci metterete un attimino di più. E adesso non ci resta che andare sul nostro testo per creare una foglia. che chiameremo TypeScript YouTube e vai va. Ci apriamo una nuova finestrina e ce lo tiriamo al suo interno. Ora andiamo a creare il nostro, giugniamo anche qua dentro, andiamo a creare il nostro primo file che proprio sarà direttamente un file che chiameremo Intro.ts. Ok, ora possiamo andare banalmente a scrivere del codice a caso, quindi const user uguale name john age 30 e poi andare a dire const, non so, prova uguale user dot name, perfetto. Andiamo a salvare il nostro codice incredibile e ora dovremo aver sbloccato il fatto di poter utilizzare quelli che sono i comandi ts.c. Possiamo chiudere il nostro terminale, possiamo chiudere il terminale che non ci serve più. e andiamo poi all'interno del nostro terminale, la nostra PowerShell e andiamo a lanciare il nostro comando tscintro. Come vedete è stato generato un file javascript. Adesso lui qua si è messo a piangere perché vede che esistono già delle variabili che hanno proprio questo valore di user e prova e quindi si è messo a piangere. La soluzione temporaneamente dovrebbe essere quella di andare ad avere export. Ok, ora non dovrebbe più piangere. Poi andremo a vedere questo cosa significa. Al momento risolviamo questo errore e poi ce ne occuperemo successivamente. Come vi dicevo anche se fosse rotto, sicuramente sì, mail, chiaramente non esiste qua. C'è un errore. Se io andassi a compilare nuovamente questo file ottengo sì qui l'avviso di un errore ma comunque se vado qua sopra nessuno mi impedisce in nessun modo di andare a fare questa operazione. Quindi se c'è un errore mi viene segnalato sì un'altra volta ma poi comunque il codice viene compilato ed eseguito a prescindere da quello che TypeScript mi notifica. Ok? Però iniziamo a vederne quella che è la sua utilità. Io qua me ne accorgerei e la smetterei subito e metterei tranquillamente. Importante ogni volta che cambio devo andare a lanciare nuovamente il comando tscintro. Il modo più semplice per risolverlo è quello di andare a lanciare il comando tscvintro e a questo punto lui va in watch mode. Ogni volta che io salverò lui cambierà. Quindi se ho cammettere si age, salvo, viene compilato e come vedete qua viene aggiornato automaticamente. Nella prossima lezione inizieremo a seguire passo passo quella che è la doc ufficiale e ne vedremo effettivamente quelli che sono i singoli type. Quindi siamo arrivati a capire effettivamente quello che è l'utilizzo e il funzionamento diciamo di TypeScript. Quindi è quello di darci una garanzia e aiutarci a intercettare l'errore prima che il codice venga appunto compilato. Che poi verrà diciamo transpilato, quindi compilato ed eseguito in JavaScript. Quindi la nostra applicazione che andremo a produrre e rilasciare effettivamente verrà poi eseguita in JavaScript, non verrà eseguita in TypeScript. Quindi avere un'applicazione in TypeScript non vuol dire che poi essa sarà effettivamente eseguita in TypeScript, sarà poi eseguita e lanciata dal nostro browser in JavaScript. Questo è molto molto importante. Ora andando avanti i nostri prossimi topic saranno andare a vedere quelli che sono effettivamente i nostri Type. Andiamo un po' a vederli. Ecco noi abbiamo una serie di Types. Un Type altro non va a che essere la tipologia di dato con cui noi vogliamo andare a lavorare. Abbiamo i tipi diciamo primitivi che vanno a essere le stringhe, i numeri e i booleani, in cui mi sono dimenticato una O, ma non andrò a rifare la grafica. Abbiamo i booleani. Dopodiché abbiamo quelli che sono gli elementi diciamo di null, di niente ecco, in cui abbiamo null proprio come tipo undefined e void. Void è la classica funzione che non ritorna nulla come tipologia per darvi un po' indicazioni di quello che è il Type di cui stiamo parlando. Dopodiché abbiamo le tipologie di oggetto, quindi gli array, gli oggetti, le tuple. Per chi comunque è abituato a lavorare magari con altri linguaggi come ad esempio Python può aver già incontrato le tuple. In JavaScript non sono così frequenti, però le tuple sono appunto una tipologia specifica di array. Per dirlo, nella JavaScript way, una tipologia particolare di array, quindi di un'associazione di chiave e valore, però non sotto forma di oggetto. E poi abbiamo delle tipologie diciamo custom che in questo caso è il type any. Il type any è un pochino la via di fuga. Quando non sappiamo bene che tipologia di dato andremo a utilizzare, soprattutto magari ci verrà restituito, piuttosto che andare a incastrarsi in un tipo di oggetto che poi magari effettivamente non è corretto rispetto a quello che vogliamo andare a utilizzare, allora si utilizza any. Diciamo che è la via di fuga, ecco. Se la tua TypeScript app è piena di any, c'è qualcosa che dunque non va. È proprio una via di fuga estrema. Ora, visti quelli che sono questi types, che andremo a vedere nel dettaglio uno a uno, è importante capire effettivamente noi quando dobbiamo andare a utilizzare TypeScript e in che situazioni esso viene ad aiutarci. Sicuramente TypeScript diciamo che è un qualcosa che aiuta il dev sì nella compilazione, ma anche poi soprattutto quando va a relazionarsi con quelli che sono altri sviluppatori. E situazioni in cui, diciamo, questo ci è molto d'aiuto. Ad esempio se io ho bisogno, mettiamo caso, di star lavorando all'interno di un team, io avrò la funzione const prova fn, che voglio che appunto sia una funzione che ho bisogno che accetti due numeri e ho bisogno che restituisca quella che è ad esempio una stringa. Questa funzione ovviamente ha poco, poco senso. A meno che appunto andiamo a fare un piccolo refactor. In questo modo mettiamo a caso che appunto io avrò il mio team di sviluppatori incredibili che lavoreranno insieme a me. Ecco, se io non avessi questo tipo di definizione, se passasse lo sviluppatore franchetto, mettiamo a caso che franchetto andasse a togliere il fatto che qua c'è un toString. Ecco, se io non avessi questa definizione in TypeScript, lui A non si accorgerebbe dell'errore e B comunque tutto quanto andrebbe avanti e magari tutta la mia applicazione si spaccherebbe in JavaScript. Quello che mi troverei sarebbe esattamente una dicitura di questo tipo. Ecco, in questo caso io in JavaScript non avrei niente che mi suggerirebbe che questo toString che era stato applicato fosse così fondamentale. Nella definizione invece di quello che è TypeScript andiamo a ottenere questo tipo di garanzia. Andiamo un po' a vedere effettivamente quella che è la sintassi. Adesso non preoccupatevi, entriamo poi nel dettaglio di quella che è la sintassi di TypeScript. Anche se abbastanza dichiarativa, noi qua andiamo a definire una funzione, poi andiamo a dire che è di tipologia number, il parametro che viene accettato. E andiamo a dire che deve ritornare quella che è una stringa, la nostra funzione. A questo punto se io andassi all'interno a utilizzare, diciamo, prova, prova fn2, come potete vedere se io andassi a passarli 1, ho un punto esclamativo, ho quello che voglio, e qua 2 avrei comunque la sottolineatura che non va bene perché il parametro A deve essere di tipo stringa. Quindi se io poi vado a mettere 1, ecco che la mia applicazione non piange più e posso andare a compilare il mio file. Quindi andare a dire tsc intro. Andiamo a compilarlo. Ecco che io non l'avevo salvato e ci va a far notare quello che è l'errore. Da notare che comunque lui è andato a compilare. Ricordiamoci questo aspetto. Il fatto che TypeScript, se faccio notare l'errore, non vuol dire che lui non andrà a compilare. Andiamo a salvare e a ricompilare il nostro file. A questo punto sarà tutto corretto. E come vedete, quello che ci aiuta anche a fare è evitarci all'interno del corpo della funzione di andare a impiccarci e fare poi all'interno di esso il controllo dei type della nostra funzione. Perché se io volessi avere questa garanzia in JavaScript di essere appunto avvisato, qualora non coincidessero, comunque non volessi svolgere queste operazioni, qualora esse appunto fossero delle stringhe, questa somma dovrei andare a controllare che il type of A sia appunto un number e il type of B sia un number. Solo a quel punto potrei andare a fare l'operazione per ritornare alla mia stringa. Eccoci, aiuta sia a evitare da un lato di scrivere eventualmente il codice useless, sia soprattutto ad avere un controllo e una garanzia, anche lavorando in collaborazione con altre persone, che questa funzione, diciamo, sarà a prova di infame, diciamo, perché una persona volontariamente modificando questa funzione andrà a togliere di qua la parte che ritorna alla stringa, mettere un numero e togliere questo string. Quindi poi nella revisione del codice mi accorgerò che qualcosa proprio non torna. Ecco, situazioni in cui TypeScript ci è molto di aiuto. Quello che faremo d'ora in poi a noi sarà proprio quello di andare a muoverci all'interno della doc di TypeScript, che vi consiglia di andare a gironzolare. A questo punto noi siamo arrivati da queste parti e abbiamo un po' iniziato a giochicchiare. Voi scorretelo un po', vedete effettivamente quante tipologie di type noi abbiamo che piano piano andremo a vedere tutte. Chiudiamo questa lezione andando a vedere quella che è la sintassi classica di quello che è proprio un type. Andiamo magari a eliminare, diciamo, questa parte qua sopra di cui ci facciamo poco. Questa la possiamo tenere, ma non è così, così fondamentale teniamo, perché è del codice che effettivamente ci servirà. Ma andiamo a spostarlo effettivamente al fondo. Giochiamo un po' con dei type un pochino più semplici. Quella che è la sintassi classica per definire quello che è un tipo, quindi mettiamo a caso che vuoi definire un type, vuol dire che type parola sarà uguale a string. Non è obbligatorio il maiuscolo, è una convenzione che si va a utilizzare. Se andassi appunto a dire che const parola, e vi dico che è di type parola, ok, vedete qua, vado a mettere i due punti dopo quella che è la dichiarazione della costante, come faccio poi effettivamente anche quando vado all'interno della funzione, vado a dire che di type parola, che sarà appunto una stringa. E questo in cosa mi aiuta? Mi aiuta perché se io andassi appunto a lavorare con quello che è la costante di parola, se io poi vado a farmi aiutare dal mio linter, ecco che sbucano tutti quei metodi che riguardano effettivamente le stringhe. Se io poi vado sotto, mi rendo conto che non ho metodi che riguardano i numeri. Se io dicessi appunto che questo è un numero, quindi se lavorassi con un altro type, stiamo lavorando un po' con i type primitivi, ecco. Se avessi, diciamo, type const numero, diciamo che è di type number, sempre nello stesso modo, con la stessa sintassi, ecco che ci portiamo dietro anche booleano, così abbiamo tutti i nostri types. Se io andassi a giocare con numero, ecco che, un numero, ecco che mi rendo conto che, facendomi aiutare, ecco che in questo momento ho solo i metodi che riguardano i numeri. E questo è molto molto importante, è molto molto utile, perché mi impedisce in ogni modo comunque di sbagliare. Poi se io volessi applicare un metodo di una stringa, come abbiamo visto, lui compila, lo esegue e avrò l'errore poi in produzione. Però, nel momento in cui scrivo codice, ecco che vengo aiutato veramente in maniera super esaustiva con quelli che sono i metodi, anche con il mio linting. Stessa cosa vale appunto con il booleano. Se lavorassi con il booleano, otterrei solo quelli che sono i metodi del booleano, che in questo caso è veramente value of. Ecco che ci aiuta ad andare a fare questo tipo di lavoro. Se appunto io qua andassi a dire let booleano e dico che è tipo true, se volessi dire che booleano adesso è uguale a ciao, mi dice che egli amico non lo puoi fare, perché mi hai detto che questo è un booleano e il tipo di stringa non è assegnabile al tipo di boolean. Ovviamente, ripeto, se adesso noi andassimo a compilare tutto questo, otteniamo sì l'errore dal nostro compilatore, però poi effettivamente booleano vale ciao nella sua compilazione. Ok, poi lui varrebbe questo, ma vedendolo qua un dev non lo accetta e allora va a dire che booleano sarà uguale a false. E in questo caso lui smette di piangere. e tutto funziona nella maniera corretta. Ecco, questo è un esempio di come possiamo lavorare con i nostri metodi, con i nostri types, quelli che sono i types primitivi, e poi entriamo nell'ottica e negli esempi dei nostri types di oggetti o comunque diciamo di nullify, chiamiamoli così. Ora, come vedete al piccolo spoiler, stiamo per passare a un prossimo argomento. Finiamo ancora una parte introduttiva in cui, ripeto, adesso alcune cose sono ancora abbastanza oscure, come questi punti, come le funzioni, che sarà il tema che affronteremo successivamente nel dettaglio con cura e fatto molto bene. Andiamo a vedere però effettivamente perché non bisogna usare Eni. Innanzitutto andiamo a vedere se ridefinissimo questa parte, non voglio confondervi, quindi la cancello, anzi facciamo che la commento, vabbè facciamo che la tengo, basta, 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 basta. La sposto solo tanto giù perché è un topic avanzato e non voglio avere le cose lì che sono confusionare. e andiamo a vedere perché non bisogna usare Eni. Partiamo dal fatto che se io andasse a definire la mia funzione che si chiama letHero e lo chiamasse appunto flash, lui comunque, come vedete, va a inferire quello che è il tipo di Eero, che sarà appunto una stringa. Ma noi vogliamo andare ad essere più specifici. Ora, se io appunto andassi a definire la function, chiamiamola function getHeroName, la definisco e vado semplicemente a dire che ritorna, ritorna, evviva. Anche in questo caso andrò a inferire il tipo che viene ritornato, quindi ritorna una stringa, ci viene detto. Quindi se andassi a dire che Hero è uguale a getHeroName, tutto funzionerebbe in maniera... Volevo scrivere evviva, ma anche evvia, va? Va bene lo stesso, scambiamo un po' di lettere. Va benissimo anche questo. Ecco che tutto funziona a meraviglia. Ma se io appunto andassi a dire che qua ho questo return as Eni e vado a forzare, oppure anche vado a dire che ritornerà un type di Eni. Ecco, non avrò più nessun errore. Se io qua mettesse, ad esempio, che ritorna True, ecco che tutto quanto funziona. Perché? Perché sta ritornando Eni. Eni ovviamente vuol dire che ritorna ogni cosa, ma il mio essere una stringa non mi dà più la garanzia di ottenere effettivamente che questo rimanga una stringa. E se tutto il codice che c'è dopo si vado sul fatto che questo sia una stringa, non avrò nessun avvertimento e tutto quanto si romperà. Ecco perché non si deve usare Eni. Perché adesso se io togliessi, ad esempio, Eni da questo punto, ecco che il mio TypeScript si metterebbe, come dice un gioco tecnico simpatico, a piangere, perché Hero appunto non è più una stringa. E il gioco non è non far piangere TypeScript, non avere errori nel nostro VS Code o dove stiamo scrivendo codice, nel nostro editor di codice. Il gioco non è quello, il TypeScript non è un nemico. Se io qua devo avere una stringa, qua devo avere una stringa, ok? Cascasse il mondo. Non è che se io qua metto Eni, sì, ok, risolvo il problema, non ho più nessun errore, tutto cumplerebbe, ma effettivamente qua non sta funzionando come vorremmo noi, ok? Il gioco non è risolvere l'errore di TypeScript e andare avanti con il codice, è ottenere il miglior risultato possibile. Questo è il motivo per cui bisogna limitare al massimo quello che è l'utilizzo di Eni, perché si risolve il nostro problema lato editoriale, ecco non abbiamo più un problema nell'editor, ma poi le nostre funzioni, il nostro codice non è più safe, ok? È proprio l'ultima risorsa con cui noi possiamo andare a lavorare. Ok, ora passiamo al prossimo argomento. Entriamo un pochino più nella viva e andiamo a vedere come si lavora con i singoli elementi di TypeScript, diciamo di JavaScript in realtà, ma con TypeScript. Anche perché io sto comunque continuando in realtà a seguire quella che è la doc, vedete, dopo i primitivi, poi ci parla un po' di Array che noi vedremo successivamente, ma poi dopo lui va effettivamente a farci vedere Eni e come lavorare con appunto le funzioni. Sto seguendo esattamente la doc. Ricordatevi che la doc non è la cosa più divertente del mondo, la legge, sono d'accordo, però io non sto facendo nient'altro che seguire la doc e cercare di spiegarvela dandovi un pochino più di contesto e facilità nell'andare a comprendere quello che vi ho scritto, che sono molto d'accordo e che tante volte sembra troppo difficile, ma noi stiamo esattamente seguendo la doc. Questo sarà il vostro punto di riferimento, oltre al codice che io poi ovviamente vi lascerò. Ma andiamo ora a lavorare con le nostre funzioni e a chiarire un pochino di dubbi. La prima cosa che possiamo andare a fare è scrivere la nostra funzione molto semplice, che chiameremo function add2. La nostra funzione add2, potete immaginare cosa effettivamente farà. Prenderà un parametro, quindi metteremo param e ritornerà param più 2. Ora, come vedete c'è una piccola sottolineatura che ci sta dicendo un qualcosa, che il parametro, che si chiama param, ha come tipo implicito, quindi gli sta inferendo da solo che è di tipo eni. Questo cosa vuol dire? Che se io scrivessi add2 e gli passassi 1, farà la somma giusta. Se gli passassi parenzo, lui farà parenzo 2 come risultato e nessuno qua sta piangendo. Quindi ecco, mentre quando andiamo a lavorare con quello che è una variabile che andiamo a definire in un certo modo, quindi const 2, ecco che è uguale a 2, lui va a inferire che è di tipo number, anzi in questo caso è una costante, quindi 2 sarà 2, dobbiamo mettere let, per essere un pochino più precisi, che dovrà essere di tipo number, quindi va a inferire che tipologia di dato è da solo e lo azzecca. E quindi è opzionale non andare a dire che sarà di tipo number, ovviamente lo posso fare, ma non è necessario. Quando andiamo invece a lavorare con le funzioni, ecco, in questo caso, ragazzuoli, è mandatorio andare a definire che cosa vogliamo che venga messo qua dentro, perché se non avremo due problemi, il primo è che lui dirà che accetta any, e soprattutto il peggiore è che lui ritorna anche any, come possiamo vedere, quindi questa roba qua è totalmente, può fare esattamente quello che gli pare e piace, una mina vagante in mezzo al nostro codice. Andiamo a risolvere questo problema, andiamo a dire che Param cascasse il mondo è un number, non ci interessa, inizia già a piangere, e questo vuol dire che lui ritornerà a questo punto un number, e sopra questo non ci piove in nessun modo. Quindi se io qua metto Parenzo, lui andrà assolutamente a piangere. Questo, tra l'altro, cosa vuol dire? Che io poi all'interno della funzione potrò fare solo alcune cose con i miei dati. Ad esempio, andassi a definire una funzione che si chiama function, value uppercase, quindi lo fa diventare maiuscolo, ecco che io ho bisogno di ottenere una stringa, quindi se qua andrò a dire che voglio usare value uppercase e gli passerò Param, io in questo punto non lo posso andare a fare e vengo avvisato, in questo modo il mio codice è molto, molto safe. Questo perché? Perché io non posso in nessun modo usare uppercase su questo elemento. Lui non è una stringa qua, io ne ho bisogno che lui sia una stringa. Attenzione che se qua togliessi questo non avrei nessun pianto perché accetterebbe a any e questa cosa ovviamente non funzionerebbe perché ho metto che sui numeri non esiste e quindi ho bisogno di andare a convertirlo e poi andare a lavorare normalmente con parametro o comunque andare a fare qualcosa di differente. Quindi ecco come andare a definire i parametri che io considero veramente obbligatori con le virgolette perché se io non lo faccio non è obbligatorio ma diventa obbligatorio per scrivere del vero codice andare a aggiungere proprio questi parametri in questo punto. Diciamo che il return, il tipo di ritorno che voglio nella funzione, se la funzione fa operazioni più complesse allora ovviamente va esplicitato perché ho bisogno di un certo tipo di dato in questi casi, lui va a inferirlo direttamente perché sto facendo una somma, sto aggiungendo due di passo sul numero e voglio che se io volessi appunto passare una stringa, ecco che in questo caso mi va a segnalare che il number non va bene. Ricordo sempre che nonostante questa roba qua sia un completo disastro per Timescript se ne andassimo proprio a compilare e a dire tsc e andiamo a compilare 01 facciamo così che ci spostiamo prima in CD01 basi e poi andiamo a fare un tsc.w.functions lui andrà a cercare di compilare ogni volta che salvasi adesso lui qua si metterà a piangere tra poco perché bisogna avere solo una variabile con lo stesso nome quindi che bisogna dire di esportare parentesi vuote così smette di premiare ok, abbiamo tolto questo pianto nonostante appunto questa roba qua sia un disastro comunque ricordo sempre lo ricordo tutto il corso che questa cosa qua funziona così che lui comunque se ne fotte e va a compilare compila e dopo tu ti trovi l'app spaccata nonostante qua comunque ci sia un errore se io sto dicendo che qua voglio una stringa non è che ti trovi un errore qua ti uscirà un numero e basta io qua non sto ritornando niente se io qua appunto andassi a dire che consta new param è uguale a valido per case di param dot to string ok ora io a questo punto se ritornassi qua new param ecco che tutto quanto ora ha finalmente un senso andiamo ora a rinforzare un po' il concetto di forzatura dei type perché è veramente importante prima di andare a vedere una funzione un pochino più complessa che fa qualcosa di un pochino più più complessa che fa qualcosa di un pochino più dedicato ovviamente tutto simulato nel nostro immaginario questo è il sign up del mio user ecco che se io vado a definire che ho name solo sono name email seguito da is paid ad esempio che ne so magari bisogna pagare per allogarsi se io qua non vado a mettere nulla chiunque in questa funzione si andrà a fare completamente gli affaracci suoi e ci metterà quello che vuole quindi chiama sign up adesso questa funzione non fa assolutamente nulla ma se gli passa uno due e quattro questa funzione ovviamente non piange non ci dice niente quindi si spaccherebbe tutto quanto ma comunque nessuno sta dicendo niente noi è proprio qua che andiamo effettivamente a dire che questo deve essere una stringa che questa deve essere una stringa e che per gli deve essere un booleano un bel booleano ecco che a questo punto la nostra funzione ovviamente si va a spaccare voi dite ma mi da solo un errore sì perché il tg tanto già da qua non vai avanti quindi tu qua devi mettere David David qua devi mettere Parenzo e a questo punto devi mettere true ultimo piccolo concetto possiamo dire che se io però questo parametro di eSpade non lo volessi obbligatorio ecco io ho due soluzioni la prima è quella di andare a marcare quello che è questo parametro con questo punto interrogativo che vuol dire che può essere anche undefined quando però un parametro è undefined diciamo che una buona prassi è quella di andare a dargli un valore di default piuttosto come alternativa oppure ho l'alternativa di andare ad aggiungere quello che è un parametro di default e togliere quello che è il mio is paid insomma queste sono le due opzioni che ho quando si lavora con le funzioni secondo me questa diciamo è preferibile nel senso che almeno so che assegnerò un valore di di false a questo elemento non avrò un valore di undefined perché questa roba qua vuol dire che paid può anche essere undefined almeno comunque lui rimane nel mio type ovviamente false e undefined sono entrambi falsi e in un if restituiscono entrambi false però è una questione più di di corrette e ora se mi sposto nella parte compilata di codice mi posso rendere conto che sign up va a fare un controllo che io nel mio typescript non vedo ovvero va a fare quel check in cui paid qualora appunto fosse uguale uguale a questa condizione di void zero va ad essere riassegnato a quello che è il valore di false questo è il modo in cui va a riassegnare esattamente un valore di default quindi under the hood accade questo quando questa dicitura quando invece vado a portarmi effettivamente questo questa dicitura vado a salvare quindi vado a ricompilare ecco che lui viene mantenuto nella stessa versione perché is paid ovviamente poi qua siamo in javascript e quindi è giustamente tutto tutto eni però è un parametro che può essere preso ma non è necessario può essere anche in the fighting quindi questa è un po' la differenza di quello che accade realisticamente lato codice passando un valore di default oppure dicendo che è un parametro opzionale continuando l'esplorazione nel fantastico mondo di typescript al capitolo delle funzioni sempre seguendo la doc andiamo a toccare un paio di topic più avanzati che fanno riferimento a questa funzione a questa sezione scusatemi moron functions della doc di typescript al momento le nostre funzioni comunque sono tutte molto semplici e vanno anche ad avere requisiti stringenti in cui proprio andare a ritornare dei type più ristretti quindi si mette a restringere quello che è il campo di return che può avere la nostra funzione andiamo a restringere in maniera corretta la tipologia di parametri che possono accettare e quant'altro andiamo un po' a vedere di type strani e situazioni particolari la prima situazione che andiamo a vedere è quella in cui una funzione effettivamente può avere due return in base a quella che è il soddisfarsi di una condizione quindi se andassimo ad avere questa funzione const get valo prende un valo e invece di fare questa cosa scontata ma al momento non vediamo nessun tipo di return e andiamo a aprire la nostra arrow function per lì di controllare che valo sia maggiore di 0 ora facciamo che se è minore di 5 noi ritorniamo false in caso invece fosse soddisfatta non fosse soddisfatta la condizione andiamo a ritornare invece che true una stringa che potrebbe essere amico mio oppure parlando un po' di informatica potremmo dire 200 quindi un server che risponde 200 success a questo punto se io andassi a vedere cosa sta inferendo la mia funzione nel suo return come vediamo ha due tipologie di return dove abbiamo questa dicitura che andremo a vedere e specificare successivamente come funziona si chiama union type in cui appunto va a specificare che possiamo avere due tipologie di return qua lui è molto specifico va a dire che possiamo ritornare false false o success o questa scrittura qua perché effettivamente ritorna solo questo ritornasse il number ovviamente avremo quello che è false e number però la nostra funzione in questo caso ecco va ad avere un return più stringente ecco che io non posso andare a garantire questa funzione per esempio number ad esempio perché ho questa condizione che devo andare a verificare e ritornare in questo caso quello che ho bisogno di ritornare e quindi non posso andare a inferire e stringere così tanto il campo come nell'altro caso possibile soluzione a questo giochino è che io vado a forzare il tipo di return e vado a ritornare zero in questo caso che è un valore che è false quindi diciamo può essere utilizzato anche poi nel 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 cercare le condizioni di di true o false anche se non è effettivamente la mia implementazione preferita se no impareremo quando vedremo quello che è l'union type come gestire queste situazioni poi andando avanti andiamo a vedere un altro tipo che abbiamo visto nella nostra presentazione che è quello del void quindi andiamo ad avere const log diciamo error possiamo vedere come funziona ci prendiamo il nostro error non andiamo col never che vedremo dopo andiamo in un momento a non scrivere niente lasciare che lui inferisca inferisca non inferisca e andiamo a console logare forse anche forse console error a console errorare il nostro errore sia a questo punto andassi a vedere cosa ritiene che ritorneremo la nostra funzione ecco che ritorniamo quello che è il nostro tipo void che il void è un po' l'undefined delle funzioni ecco dovresti dire un modo terrificante per dire cosa sia il void è il ritorno di una funzione che non ritorna niente e quindi ritorna di per sé undefined e senza return ecco ok se io appunto andassi a ritornare undefined come vedete lui adesso ritorna undefined non più void void è una funzione senza return questo è quello che vuol dire molto importante anche in questo caso andarlo a definire perché se a questo punto io ritornassi qualsiasi cosa anche undefined lui in questo caso funziona perché il void di per sé corrisponde ha un non return della nostra funzione ma se ritornaste già al nostro errore ecco che inizierebbe a piangere quindi molto molto importante andare a selezionare anche in questo caso il type che vogliamo che venga ritornato perché ripeto quando stessimo lavorando con un team di persone ecco io ho bisogno e la garanzia che chiamando questa funzione non venga ritornato nessun valore perché se no la mia applicazione effettivamente va a saltare completamente in aria e qualsiasi deb che arrivasse a toccare questa funzione sa che non importa cosa lui faccia ovviamente è importantissimo quello che faccia dentro questa funzione ma avrà e dovrà darmi la garanzia di ritornare un type void andiamo a vedere un altro type particolare che è il never che diciamo che vuol dire che non deve ritornare niente non deve avere nessun valore e come vedete già così otteniamo la segnalazione di quello che è un errore perché in questo modo ecco la nostra funzione in realtà sta ritornando void e allora cosa cosa serve il never come vedete il never va a definire una funzione che non ritornerà mai nessun valore però anche effettivamente il nostro void di per sé non ritorna nessun valore anche se in realtà under the hood sta ritornando sotto il cappuccio sta ritornando quello che è undefined never non accetta neanche questo tipo di condizioni e allora cosa ce ne facciamo ce ne facciamo per andare a definire tutte quelle funzioni tutte quelle operazioni che porteranno proprio a un crash forzato le nostre applicazioni quindi il throw di un errore manuale ecco questa casistica di never viene appunto utilizzata tra i vari utilizzi che ha proprio per andare a a garantire che questa funzione non solo non ritornerà nessun valore ma proprio interromperà quello che è il flusso completo della nostra applicazione funzione quello che vogliamo che da qualche parte deve essere intercettato questo è l'utilizzo del valore di never volessimo vedere l'ultimissimo tipo di quella che è sempre questa famiglia dei valori un po' un po' strani possiamo andare a vedere quello che è il valore di unknown unknown ecco diciamo che è un po' un eni in cui io non so esattamente che tipo esso sia però quella differenza tra unknown ed eni è che con unknown io non posso fare nulla fino a quando non vado a definire che tipo questo valore è non posso svolgere nessuna operazione quindi se vado a dire ovviamente lo posso consologare perché consologare posso consologare ogni valore però se andassi provare a fare error dot to string ecco che lui comunque mi impedisce di fare anche questa operazione che tecnicamente dovrebbe essere permessa su qualsiasi tipo di oggetto o type perché lui mi dice che non sa che tipo sia e quindi onde evitare qualsiasi errore che si possa verificare io devo andare a definire prima che tipo di oggetto sia quindi coloro error di coloro diciamo che if type of error è uguale a string allora in questo caso posso andare a svolgere a questa operazione che però come vedete ci portano questa funzione a piangere perché se questa condizione non è verificata allora io sto ritornando void ok quindi dovrei andare qua a trovare un errore che è generic error va a fare questa roba qua anzi a fare questo gioco qua e va a dire che ti vecchi un bel 500 detto in maniera terrificante queste sono un po' le tipologie di dato un pochino strano a now è l'unico che non c'entra effettivamente con la nostra con le nostre funzioni ma mentre c'eravamo andiamo a vedere un po' tutte le cose strane va bene e bada e ora dalle funzioni passiamo al prossimo argomento gli oggetti gli oggetti probabilmente sono in javascript una di quelle cose che forse è più stupido e finalmente con typescript riusciremo a risolvere la stupidità di questa tipologia di dato questa tipologia di struttura andiamo subito a vedere come lavorare effettivamente con i nostri oggetti andiamo prima a dire al compilatore che deve guardare questo file e poi ci spostiamo in cd01 basi un attimino e diciamo che scw objects ok ora quando salviamo dovrà compilare e crearci il nostro file oggetto.js perfetto possiamo continuare chiudiamo il terminale e andiamo avanti e creiamo per primo il nostro user che chiameremo di nome Anna di cognome da Roma insegneremo una mail e andremo a dire che a Anna chiocciola evviva .it ad esempio e questo è il nostro user come vedete lui va a inferire come tipologia che a nome si deve assegnare una stringa che a cognome è una stringa e che mail è una stringa magari aggiungiamo in uno diverso diciamo is paid e mettiamo true ora ammettiamo di aver bisogno di una funzione per andare a creare un nostro utente chiamiamolo pagante quindi andiamo a definire la nostra funzione che si chiama create user che ha bisogno definiamola così const create user che sarà uguale a dopo scriviamo tutto quanto bene adesso andiamo a definire la funzione così non piange e andiamo a dire che deve accettare un oggetto che avrà name nome scusatemi poi in realtà non cambia nulla nome cognome e lì andiamo a mettere is paid ora andiamo a definire il type il type si va a definire in questa posizione quindi si vanno a dare i due punti e poi si va a dire che accetta appunto nome che una stringa cognome che è una stringa is paid che è un booleano ok andiamo a salvare e volessimo ottenere in return diciamo questo oggetto dobbiamo andare proprio in questo punto a aggiungere questa scrittura ho messo due volte ok in questo modo magari andiamo a salvare formattando permanentemente britter come formattatore ok in modo che lui vada a capo in questo modo un pochino più più furbo ora l'errore che vedete è perché la nostra funzione sta ritornando quello che effettivamente è void oppure end quindi non sta ritornando questo tipo di oggetto quindi a questo punto io posso andare a dire che lui ritorna esattamente questa roba qua se ora vado a passare a create user quello che è uno user quindi andiamo a crearci con nome gli diamo vittorio dopo di che lui vuole quello che è un cognome cognome anche lui avrà da roma a roma andiamo in spade true anche a lui e i nostri credit user effettivamente funziona e ci ritornerà quello che è un utente nuovo ora se io andassi a questo punto a passare a create user quello che è il nostro user ecco che io e ora per concludere andiamo a passare al nostro credit user il valore di user e voi direte ho tutto apposta funziona tutto bene c'è un piccolo problema però nei comportamenti stupidi di javascript che comunque riescono a persistere in tutti i modi come vedete il nostro user non ha solo nome cognome e is paid come richiesto dalla nostra funzione ma si porta dietro anche mail e la nostra funzione non si sta lamentando in nessun modo io potrei aggiungere tutti i campi che voglio e lui non si lamenterebbe mai al contrario se ne togliessi uno che richiesto invece lui andrebbe a piangere diciamo che alla nostra funzione non gliene frega assolutamente nulla che esista anche il campo mail essa comunque continua a funzionare nella maniera corretta e restituire lo stesso tipo di oggetto il problema è che magari nel nostro nuovo user che andiamo a crearci ci perdiamo poi un pezzo che magari più avanti ci potrebbe servire quindi generalmente occhio a questo tipo di comportamento un'altra cosa un po' strana è che uno debba sempre portarsi un po' questa agonia in giro per il proprio codice senza poterla riassumere nella prossima lezione andremo proprio a vedere come andare a sintetizzare questo tipo di sintassi in un diciamo in un metodo un pochino più più semplice e soprattutto ripetibile riproducibile andiamo a salvare questa cosa incredibile vediamo se nel nostro object.js c'è qualcosa di strano sono solo un po' di cose strane ma per il resto è tutto è tutto normale perfetto andiamo alla prossima lezione già qua si è portato sempre questo gioco qua questo gioco qua semplicemente va a definire questo tipo di scrittura che è un funzionamento di come javascript va ad esportare i propri moduli per essere poi ricomposti all'interno di quello che è un'applicazione andare a riordinare di maniera molto molto semplice questo si risolve andando a generare un file di configurazione tsconfig che vada a dare indicazione alla nostra applicazione di dove andare diciamo a espellere questi file buildati in modo che dopo sia più più semplice per lui andarli a ricomporli in un unico file ma questo è un discorso che in questo momento a noi non interessa solo per chiedervi cosa vuol dire questo gioco furioso qua di avere sempre questo export nella parentesi vuota al fondo come ci si toglie dall'inghippo di avere questa ripetizione così frequente andiamo un pochino qua sotto ci prendiamo un po di spazio in modo da avere più schermo possibile e andiamo a vedere in che modo si ottiene questo risultato ovvero utilizzando quelli che sono chiamati i type aliases in inglese l'alias diciamo che li si da a un type specifico si va ad assegnare un alias un suo nome per ricondurlo a quel punto come si fa? si utilizza la parola chiave type seguita dal nome che vogliamo andare a dare al nostro type per convenzione si preferisce utilizzare la lettera maiuscola quindi si va a dire ad esempio in questo caso user e si va a dire che user è di tipo nome stringa, cognome stringa, is paid boolean e generalmente per la nostra applicazione è sufficiente ma noi vogliamo anche avere quello che è il valore di mail che diciamo che sarà proprio una stringa anzi al momento non teniamoci la nostra mail ecco che se io andassi a questo punto a riscrivere la nostra funzione create user che ce la prendiamo qua e la chiamiamo user v2 andiamo a dire che lui qua non accetterà più questa agonia infinita ma vorrà semplicemente user come type anche qua noi vogliamo che utilizzisca quello che è uno user perfetto ora nella nostra applicazione funziona tutto esattamente come prima un pochino più compatto, un pochino più bellino e soprattutto riutilizzabile e un pochino più comodo ecco a questo punto se io andassi a replicare questo tipo di scrittura con create user v2 user v2 anche in questo caso non avrei nessun problema quindi questo, importante dirlo, non è che va a risolvere quello che è il nostro problema in cui andiamo a passare quello che è il valore di Anna potremmo risolverlo se passassimo qua quello che è il valore di user passando qua il valore di user anche in questo punto noi ci rendiamo conto che abbiamo una props di troppo che non è necessaria e allora ci viene causato il nostro errore a priori però prima di andare a giocare con la nostra funzione ecco come possiamo andare a fare un po' di salvaguardia sul nostro codice ma appunto mettiamo caso che noi volessimo andare a utilizzare anche il type di mail però non tutti gli user magari hanno una mail come possiamo andare a risolvere questo problema? facciamo che ci portiamo sotto, anzi sopra questo user così che ce l'abbiamo in cima effettivamente a quella che è la nostra anzi rimaniamo qua sotto, poi scriviamo tutte le cose qua sotto sto impazzinando un attimo a fare questa cosa perché sto cercando di capire dove andarlo a posizionare se noi volessimo avere quella che è e ci creiamo un nuovo user qua sotto facciamo così, non sarei tipo user ma avremo user2 user2, perfetto se io appunto volessi avere questo campo ma non tutti ce l'hanno posso andare a utilizzarlo quindi posso andare a dire che esiste mail che punto interrogativo due punti e una stringa questo vuol dire che questo type può esistere come non esistere infatti adesso user2 non piange più perché lui ce l'ha se creasse appunto user3 user3 ecco che non avesse la mail ecco che non avrei nessun problema quindi questo ci garantisce anche di avere un pochino più di flessibilità all'interno dei nostri types ora esistono altre tipologie di types che possiamo andare a utilizzare altri modi con cui possiamo interagire con i nostri types l'idea è quello di andare a dire che magari abbiamo questo campo che si chiama id che esiste sempre anzi ci andiamo a creare quello che è un altro type che è il type lo chiameremo il type ehm logged user utente un po' in italiano registrato utente registrato sarà identico a quello che è il nostro user quindi avremo nome cognome spade e la mail che sarà in questo caso opzionale e in più si può portare dietro a quello che è il valore di un id che sarà obbligatorio ma sarà a sua volta di type ridonle si metto con una lettera ok ridonle ora diciamo che il nostro create user v2 verrà rinominato e si chiamerà appunto create ma così register user e appunto accetterà uno user e ritornerà quello che è un utente registrato ora questo cosa vuol dire che il nostro utente registrato che la nostra funzione deve ritornare quello che è appunto un return in cui abbiamo id che può essere tranquillamente maf dot random to string 66 sub string 7 è una cosa completamente a caso e poi si porterà dietro quello che è il valore di nome cognome e is paid a questo punto il nostro utente registrato avrà questo tipo di comportamento e quello che noi non potremo fare poi successivamente se avessi ad esempio il mio user 4 che vado a creare quindi adesso è un utente registrato se volessi dire che user 4 dot id è uguale a questo valore otterrò un errore perché? perché è una proprietà read only quindi vado a dire al mio codice che questo valore può solo essere letto quindi lo posso solo appunto andare a stampare mostrare ma non posso andarlo a modificare perché è un campo che non deve essere mai modificato ok? quindi abbiamo anche questo tipo di citura all'interno dei nostri types ovviamente posso fare types di ogni tipo esistente quindi posso anche andare a dire posso anche andare a dire che esiste type my string e dire che è uguale a string ovviamente questa cosa non sta né in cielo né in terra ovviamente non esiste però però lo posso fare adesso posso utilizzare my string come effettivamente type al posto di utilizzare string io qua posso andare a dire my string my string ad esempio e tutto comunque funziona esattamente bene come prima l'errore rimane questo per il resto tutto funziona bene ok? quindi posso fare veramente qualsiasi cosa solo io che vado a riassegnare con un nome mio che mi piace a un type un valore noi possiamo andare a costruire delle strutture che sono più più complicate che ci danno molta più garanzia rispetto a quello che che è l'oggetto con cui stiamo lavorando e questo ci viene concesso dal fatto che noi possiamo andare a combinare quelli che sono i nostri type per fare un esempio proviamo a immaginare che effettivamente il nostro utente registrato ora vado a comprare quello che è un corso quindi più che fare una funzione volevo fare un type avremo il type di corso il nostro corso avrà anche lui un id che a sua volta sarà ridonli poi avrà un nome una descrizione che sarà vabbè non obbligatoria e quant'altro è un prezzo diciamo un prezzo che sarà un number dopo di che lo studente però per comparsi il corso dovrà fare comunque un pagamento quindi avremo da qualche parte effettivamente quello che è il card details avremo numero carta cvb e quant'altro poi magari avremo type payment che si porterà dietro quello che è un importo quello che sono la data del pagamento e un payment id ad esempio che anche a sua volta sarà ridonli possiamo andare a crearci quello che è veramente un utente reale per quella che la nostra applicazione quindi chiamiamolo type app user e l'app user avrà un suo rioli id stringa avrà un nome avrà un cognome avrà un is paid e avrà ad esempio la sua mail opzionale dopodichè iniziamo ad avere quelli che sono gli altri elementi card details che è un oggetto che è opzionale qualora però fosse opzionale dentro dei campi che sono obbligatori poi avrà i suoi corsi che appunto vanno a essere opzionali e sono un array di corsi nella prossima lezione vedremo nel dettaglio gli array questo ci dà il primo spunto dopodichè avremo quelli che sono i suoi payments i suoi pagamenti che sarà un array di pagamenti ora questo è quello che effettivamente è il nostro user completo se io dovesse andare a creare appunto quello che è il mio const app user che sarà di type app user se io vado appunto definirlo ecco che avrò va bene il mio id manuale il nome la roma is paid true e lui effettivamente da questo punto in poi di per sé è soddisfatto una buona prassi è quella di andare a mettere subito sopra i campi che sono obbligatori e poi far seguire tutta la serie di campi che sono opzionali ora se io dovessi fare una funzione che si chiama const by course in cui l'utente effettivamente va a comprare quello che è un corso banalmente io quello che devo andare a fare è andare a controllare una serie di cose ad esempio nel nostro caso se il nostro utente non è pagante not user dot il spade quindi mettiamo caso che la nostra piattaforma si può solo vedere se l'utente ha pagato una subscription coloro non lo fosse allora io faccio un bel return e la finiamo qua non andiamo oltre questo punto andiamo a ritornare in questo punto e la nostra funzione si ferma effettivamente poi magari andiamo a chiamare una funzione che ti porta al flusso di registrazione che facciamo magari un window dot open e ti mandiamo aprire un link in cui ti puoi registrare ad esempio si può fare questa opzione facciamo finta che noi ritorniamo e basta oppure tiriamo fuori un errore a questo punto se l'utente non ha quello che è user dot card details anche in questo caso noi ritorniamo sicuramente non ha aumento di pagamento quindi non potrà comprare nessun corso ora che queste condizioni sono finalmente soddisfatte andiamo a giocare un pochino qua praticamente ci sarà un bel try catch in cui andremo a chiamare il nostro pagamento lo servizio di pagamento quindi andremo a provare a fare magari user dot pagamenti dot push gli andremo a pushare quello che è per menta e di una cosa a caso importo una nuova data nel caso fallisse andremo a questo caso fare un console log del nostro errore questo non è importante questo punto qualora questa operazione appunto fosse andata a buon fine non ne possiamo andare avanti e dire che finalmente l'utente si è comprato il nostro corso ora come vedete in tutte le nostre operazioni di push noi abbiamo questo punto un negativo punto che chi non lo conoscesse questa è l'opzione al cinema che va a provare a chiamare un metodo su degli oggetti che sono undefined nel caso questo fosse undefined non verrà chiamato nessun metodo altrimenti andrà a chiamare proprio il metodo questo lo fa perché lui vede che questo elemento può essere praticamente vuoto magari non ancora fatto nessun pagamento e quindi non lo sa che sta aggiungendo al pagamento al pagamento un altro nuovo pagamento quando appunto questo funzionasse stessa cosa per i corsi lui non sa se corsi effettivamente esista su uno studente magari al momento non ha ancora comprato nessun corso quindi a questo punto andrà ad aggiungere un valore ecco che in questo modo se io vi passassi quello che è il nostro utente che creiamo c'è anche un concorso con sto corso di type corso e andiamo a creare ai di 123 non è corso corso di react descrizione corso di react e prezzo 100 in questo punto se io andassi a fare il mio bari corso app dot corso quello che succederebbe che molto probabilmente io mi fermerei esattamente in questo punto perché l'utente non ha nessun card details ok questo però mi aiuta molto a definire la maniera più corretta possibile quelle che sono le mie funzioni vedete quante condizioni sono andato a definire che altrimenti non mi sarebbero state effettivamente possibili perché io qua magari dovevo aggiungere metodo che deve essere uguale a user dot card details dot numero car 20 metodo qua non esiste ciò andiamo ad aggiungere sul nostro modellino che appunto è qua cina mettere metodo metodo che metodo che deve essere una stringa ora se non avessi questo controllo in questo punto ecco che il mio cari test potrebbe essere undefined e lui non sarebbe soddisfatto posso andare a fissarlo in questo modo ma poi dopo mi va a dire ora che questo metodo deve esistere non può essere undefined devo avere per forza una stringa se appunto io non faccio questo cerchio che inizia ad avere questi problemi ed è proprio qua che vediamo la potenza effettiva di di typescript non appena andiamo a lavorare con oggetti un pochino più più complessi per noi avere queste garanzie prima che il codice venga eseguito per me è importantissimo perché vi ripeto se io qua vado a salvare adesso apro un delirio qua 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 dentro però ecco come la nostra funzione di corso questo garantisce che tutto quanto effettivamente sia funzionante qualora comunque io non avessi quello che effettivamente è il mio il mio controllo lui andrebbe a eseguire il pagamento speccherebbe undefined in undefined in metodo salverebbe undefined e io salverei su db in questo modo questo processo che è una cosa che non deve in nessun modo succedere quindi ci aiuta a prevenire questo tipo di errore diamo un fiato di respiro e lanciamoci verso quelli che sono gli array andiamo a creare un nuovo file lo chiameremo proprio arrays arrays.ts non ho creato fuori da balzi forse ok sì arrays.ts non sono in ordine mi dispiace ragazzi l'alfabeto funziona così andiamo a spostarci da qua e andare a dirgli che deve guardare adesso arrays perfetto si cooperà i suoi array e avremo un po con gli array prima li abbiamo visti al volissimo ora andiamo a dire due parolini in più su quelli che sono i nostri amici array per prima cosa andiamo a definire finalmente un array andiamo a dire che const array è uguale a quello che è un array perfetto fin qua tutto molto semplice no? se io qua vado a dirgli che è di type array come dovrei fare se io me ne vado bello tranquillo a dire che ragazzi voglio pusciare nel mio array ci voglio pusciare uno ecco che mi becco un bel errore mi fa perché è un bel errore e mi dice che il type number non è assegnabile al type never perché andare a definire questa tipologia di array in questo in questo modo va ad assegnarli come default il valore di never ok? quindi io qua dovrò andare a dire che avrò number stessa cosa comunque anche se lo andassi a definire così la scrittura che abbiamo messo così era solo per clarificarvi quello che stava succedendo lui di default va a inferire che il mio array è un array vuoto e d di tipo never come ci siamo ricordati never non accetta nessun valore quindi dobbiamo andare a specificare che tipo di array noi vogliamo noi vogliamo che sia un array di numeri ok? ho un altro modo di definire degli array che è quello che ci viene suggerito che scriveremo però assieme array 2 e due punti scrivere la dicitura array parentesi angolari e andare a dire number a questo punto vado ad assegnarli quello che è un array in questo caso vuoto ma poi potrò fare la stessa cosa di andare a pusciare array 2.push 1 e otterrò lo stesso esultato sono due metodi alternativi di scrivere la stessa cosa dipende un po' da quale voi preferiate non c'è nessun problema ovviamente posso andare come abbiamo visto prima con la tipologia di corso se io andassi ad avere type corso che è lo stesso che ci portiamo dietro da prima ecco che se io avessi un type corso e andassi a dire che corsi è di type corsi se lo vado a lasciare vuoto io poi dopo qua dentro potrò solo dire push di un oggetto di tipo corsi quindi ti posso andare andare id nome prezzo e basta perché il resto non è obbligatorio poi possiamo andare a vedere se questo ci serva oppure no ovviamente se io poi andasse a dire ad esempio corsi dot map lui si rende e andasse a dire che voglio proprio lavorare con quello che è un corso lui qua sa che questo tipo è di tipologia corso ok quindi se io andasse a dire che voglio ritornare devo magari salvarlo da un'altra parte quindi const corsi description io voglio ritornare non remove event listener voglio fare un return di quelli che sono i corsi dot descrizione occhio che potrebbe carmi come mi suggerisce trasformare in array di stringhe o undefined perché descrizione è undefined ok quindi lui sa benissimo a cosa possa accedere a cosa non possa accedere scrivessi qua punto pagamento pagamento mica esiste sul tipo corso ok quindi questo ci permette poi di interagire in modo molto preciso con quelli che sono i nostri array molto molto importante questo questo fattore questo è la commento che non ci voglio di avere l'errore però lo lascio qua quindi ricordiamoci che possiamo comporre i nostri array con i nostri types ora un errore molto molto frequente e molto comune quando si lavora con gli array che io magari voglio avere un nuovo string array che ovviamente è un array di string a questo punto lui sa benissimo che in rd string lo va a inferire tranquillamente in rd string uno quello può specificare per essere più più strict però lui comunque anche qua va a inferire se poi avessi const number array stesso giochino però se volessi un array misto mixed array in cui io ho questa struttura lui di default lo va a leggere però se dovessi definirlo un errore che succede molte molte volte oppure magari in questo momento io ho solo questo array però in realtà voglio anche avere dei booleani qua dentro potrebbe succedere che ho anche questa tipologia di scrittura oppure ancora più semplice guarda io in questo momento ho solo 1 e 2 1 e 3 in questo modo ma so che avrò dei numeri a questo punto lui sta inferendo quello che è il mio array come un array di string io non voglio che signore di string perché se provassi a pusciarci 2 ovviamente non funzionerebbe quindi vado a definirlo e uno va a dire che può essere di type string or number e ci mette una bella parentesi quello che succede mille volte è che uno fa questa definizione e in realtà lo ti dice che questo valore può essere o una stringa o un array di numeri quindi qua la soluzione è quello di andare a piazzare una bella parentesola qua e lui capisce che questo questo array di stringhe o di numeri vado a piazzarci un bel 2 se qua ci aggiungessi boolean ok se ci metto un bel true funziona comunque tutto quanto quindi occhio a questa errore che succede veramente tante volte che poi ti fa diventare matto nel capire perché il tuo codice effettivamente si sta lamentando perché poi se io lo vado a definire in maniera sbagliata e il codice funziona accade anche quello c'è come c'è la possibilità che lui compili e compili sbagliato mi chiedo un po' di finestrini che non servono più niente compili un po' di compili e c'è un errore se io comunque l'agile export l'export export export ok come succede che io se lascio un errore di typescript e lui compila si porta dietro comunque l'errore tante volte succede che io magari definisco male un type come nel caso che abbiamo detto e poi di per sé codice in realtà funziona quindi c'è anche questa alternativa tra tra le due e molte più volte la prima che la seconda però occhio come definiamo i type perché poi magari abbiamo un codice un lato che funziona e i nostri type che ci dicono che non funzionerebbe quindi occhio a definire con molta attenzione e con accuratezza i types ok qua ci troviamo di fronte a questa scrittura che ci chiediamo che vuol dire diciamo che sembra un operatore or senza una stanghetta è effettivamente è un operatore or effettivamente nel suo funzionamento andiamo un po' però a vederlo meglio nella sua definizione e utilizzo andiamo magari a creare un altro file chiameremo unions basta crearlo fuori da base fortesemente vediamo un nuovo amichetto unions dotts diciamo sempre al nostro compilatore simpatico che vogliamo andare a watchare a guardare unions dotts anche se faremo solo dei types qua dentro ma per sicurezza ci mettiamo di là chiudiamo array e andiamo in questa nuova incredibile pazzesca avventura diciamo che le unioni ci permettono di andare a gestire tipi di dati che possono avere diverse chiamano le tipologie o forme ecco sono un po' un da forma e facciamo un esempio quindi mettiamo un punteggio const punteggio e prende punteggio può essere di tipo string oppure può essere un number e andiamo a dire che in questo caso è 30 ora se io andassi anzi lo chiamassimo let e andassi appunto a dire che punteggio è uguale a 30 non otterrei nessun errore questo è il caso in cui si vanno utilizzare le unioni ci permettono di andare appunto a definire che un certo tipo di elemento può assumere più tipologie di dato diciamo che è un caso anche molto comune di utilizzo delle unioni un pochino per stringere il campo su alcuni valori quindi metti caso che definissimo type user e user potremmo dire che avrà vabbè al solito id non importa questa cosa qua un nome un cognome e poi magari avrà un ruolo e avremo questo tipo di unione ecco questa unione ci va a dire sì che questo elemento può avere due valori ma che possono essere solo unicamente admin e user questo è un caso molto utilizzato per andare a stringere un po' il campo utilizzando un'unione di alcuni elementi quindi se andassi a creare quello che è un nuovo user ecco che mi troverei con id nome cognome e poi qua in role posso dire solo admin o users come tessi moderatore ecco che otterrei un errore per risolverlo diciamo dovrei anche abilitare quello che è il ruolo di moderatore quindi questo è una casistica con cui possiamo utilizzare l'unione invece che per ampliare il campo in realtà per andare a stringere il campo di valori che possiamo andare ad accettare un altro esempio molto comune di utilizzo di questi parametri e che magari io mi trovo con una funzione che si chiama questo caso fn normalmente che andrà accettare quello che è magari piuttosto che uno user che non ci vuole usare lo user andrà ad accettare quello che è il valore di param e param sarà una stringa o appunto un number e questo è un caso molto comune mettete caso che io stia usando il mio punteggio per fare qualcosa in questa funzione ecco che mi trovo esattamente in quella situazione per ora vi rendo conto che se vado a fare param dot qualsiasi cosa ecco che mi trovo solo con tre metodi che sono i metodi che hanno in comune le stringhe e i numeri se devo andare a compiere alcune operazioni devo andare a stringere il campo io vado a stringere il campo proprio dicendo che utilizzando quello che l'operatore type of type of va a ritornarci quello che è il tipo di dato con cui stiamo lavorando qualora appunto fosse una stringa io vado a utilizzare tutti i metodi avrò a disposizione tutti i metodi di del caso che riguardano proprio le stringhe quindi quale su si tiene qua perché speriamo bene se invece mi renderà conto che sarà un number che questa condizione è escluda quindi non è una stringa per forza un numero ecco che vado a utilizzare metodi disponibili sui numeri se andate a fare un over sui singoli elementi prendete conto che otteniamo anche una stringa qua è un number quindi typescript è abbastanza intelligente da permetterci di fare questo tipo di inferimento e andare a lavorare con il tipo di variabile giusta quello che sta succedendo nel nostro file che non è questo ma è questo è esattamente la stessa identica cosa ah già una volta che entrò qua dentro dentro nell'incubo di dover mettere export ok andiamo temporaneamente a chiudere ed ecco che ritorna un po' al tema che ci siamo detti prima con i nostri simpatici array ecco andiamo a prima un attimo il file degli array ci rendiamo conto che questa tipologia di scrittura ora forse ci sembra un pochino più chiara rispetto a questo e anche in questo caso una unione e a sua volta anche un unione ora uno può andare anche ad avere delle unioni un pochino più complesse in cui va ad avere che un ruolo qua user stringente e poi può andare a definire quello che è un type che si chiami admin deve fare così se lo copia e avrà qua admin e admin qua si porta dietro il fatto di essere un admin e se qua mi creassi il mio bell'admin mi creassi il mio simpaticissimo admin ecco che avrei lo stesso giochino nome mario cognome rossi a caso ruolo avrei admin ora posso dire che un utente è di type user admin in cui ho questa distinzione in cui uno può andare a effettivamente avere due modelli completamente differenti e poi reagire a seconda di come quel modello si comporre magari altre funzioni sotto che sono presenti sono nell'admin e vado a verificare e poi so che sto lavorando con il modello del dell'admin ecco per andare magari facciamo finta che l'admin proprio si porti dietro ad esempio test che sarà di valore test test all'interno del mio admin test diciamo che è una una stringa se dovesse andare ad accedere a questo valore metti caso che abbiamo la function numero 2 in cui abbiamo il nostro user or admin ecco io qualora appunto avessi questo elemento avessi questo elemento lui vedete che va a fare un tipo di inferimento in cui capisce non solo che questa volta davanti a una stringa un numero come in questo caso che un pochino più semplice ma si rende conto che in questo caso è di fronte a un admin oppure di fronte a uno user ecco che il caso d'uso ci aiuta a vedere qual è il potere veramente di queste unioni e quanto typescript riesca a capire cosa stiamo andando a fare rispetto a il modo in cui definiamo i nostri types continuiamo ora lungo la strada che ci porterà alla conclusione di questo capitolo degli elementi basilari diciamo mattoncini lego di typescript dove siamo andati a vedere un po tutte le tipologie di dato e come esse si comportano in typescript entrando nell'argomento delle tuple le tuple o la tuple andrà ad aprire il primo di di tanti argomenti che fanno parte solo unicamente dell'ecosistema di typescript all'inizio del corso abbiamo detto che typescript non aggiunge niente a javascript quindi non ci dà nessuna feature in più e sarà così anche con le tuple e tutti i prossimi argomenti successivi in typescript quello che si intende con riservato solo unicamente all'ecosistema di typescript è dato semplicemente dal fatto che si andranno a utilizzare alcune tipologie di dati in questo caso con le tuple parliamo degli array in un modo che in javascript non è permesso per andare a ottenere un controllo maggiore su come essi vengono appunto scritti che cosa sono le tuple? le tuple per chi magari arriva da un linguaggio come python altro non sono che degli array che hanno una struttura ben definita al loro interno in cui gli elementi hanno un certo ordine e spesso rappresentano un'associazione tra chiave e valore un pochino quello che può essere una mappa ma andiamo a vederle nel dettaglio e andiamo soprattutto a vedere a che cosa esse servono andiamo più giù rispetto a questo solito magic trick dell'export e andiamo a definire il primo caso che potrebbe causarci un problema che le tuple possono risolvere mettiamo caso che io appunto avessi quello che è un classico user in cui la mia API mi risponde sempre che il primo elemento è l'id e il secondo è appunto la sua mail quindi mail chiocciola mail punto mail e andiamo ad ottenere questo tipo di struttura e io questo come lo vado a descrivere? Beh lo vado a descrivere e viene anzi descritto automaticamente inferito nel nostro typescript come appunto un array di stringhe o numeri questo però in cosa si traduce? A che errore ci può portare? Beh io in questo caso so benissimo che la mia ipotetica API mi risponde con l'id come primo elemento di questo array e come secondo una stringa che comunque rappresenta quella che è la mail bene se per caso comunque io andassi a scrivere 112 anche solo in questa maniera nel mio array come vedete non ottengo praticamente nessun errore il mio array rimane stabile nonostante la mia API non sia più corretta e tutto questo spaccherebbe completamente la mia applicazione certo non è la miglior struttura possibile per andare a fare questo ma alcune volte può capitare di dover utilizzare questa soluzione qual è appunto il rimedio a questa problematica? È quello di andare a diciamo che ce la copiamo e andiamo a commentare la riga che non ci serve più andiamo a dire che il nostro array sarà strutturato in questa maniera ovvero number e string questo cosa vuol dire? Vuol dire che la struttura sarà fissa se io andassi appunto a inserire qua una stringa come vedete ottengo un primo errore che ci va a dire che deve essere di tipo number perché si aspetta in posizione 1 proprio che esso sia un number questo ci garantisce di avere un pochino più di stabilità quello che può succedere è che possiamo andare a dire banalmente che type user sarà uguale al nostro number string che abbiamo in questo punto e possiamo andare a dire che lui è un user e ci permetterà di andarlo a riutilizzare all'interno del nostro prodotto quali sono i limiti di questa soluzione? Perché come sempre abbiamo dei limiti diciamo che la tuple nasce per darci la garanzia che il nostro array abbia sempre almeno una lunghezza di 2 e che nelle posizioni nelle quali ho bisogno di accedere in questo caso la posizione 0 e la posizione 1 troverò un numero e una stringa perché vi dico questo? Perché questo sistema si rompe banalmente andando a dire che user.push ci vado a pushare quello che è il valore di 1 vedete che non mi viene impedito e ora come tutti quanti sappiamo oggettivamente user adesso ha 3 oggetti però per quanto riguarda la mia API, quello che mi serve e quello a cui dovrò accedere effettivamente questo sì, questa struttura non è più veritiera ma tecnicamente dovrebbe causarmi un problema perché ho tipizzato fino a questo punto e quindi mi aspetto di utilizzare solo questi due elementi quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione potrebbe essere che user sia di tipo read-only questo tecnicamente dovrebbe aiutarci a migliorare questa soluzione questa cosa vuol dire che user può essere solo letto, infatti push non esiste sul tipo di user e questa è un po' la miglior soluzione, una delle tante soluzioni con cui possiamo andare a risolvere questo ipotetico problema però come vi ho detto qualora appunto andassi a definire una struttura di tipo tuple io quello di cui ho bisogno oggettivamente è di garantirmi che il mio array abbia una lunghezza di 2 e che nelle posizioni con le quali io devo andare poi a lavorare troverò il tipo di dato di cui ho bisogno quindi anche se poi venisse aggiunto dovrei essere safe il problema quando nasce anche con questa idea è che se io appunto non avesse il read-only in questo caso posso anche andare a fare appunto user dot unshift e andare a inserire un valore in testa all'array questo spaccherebbe veramente tutto quindi il read-only in questo caso ci va a salvare veramente la vita il prossimo argomento che andremo ad affrontare per la serie riservati a TypeScript sono gli inam gli inam sono una struttura, sono un tipo di dato abbastanza particolare che va a rappresentare delle scelte diciamo che devono essere fisse come quasi se fosse la garanzia che uno switch andrà ad ottenere quel tipo di valori e quando ne abbiamo bisogno? Beh, quando necessitiamo che una costante o una variabile corrisponda ad un valore scelto tra appunto una lista di valori e elementi a noi ben conosciuti per fare un esempio abbastanza pratico possiamo immaginare di avere i posti dell'aereo che di per sé hanno delle file però poi sono rappresentati da una serie di opzioni che possono essere A, B, C, D, E ed F se io dovesse rappresentare questa struttura appunto con quello che è sono gli strumenti che ho a disposizione in questo momento potrei avere magari appunto un finestrino che magari è uguale a diciamo 0 cost centrale 1, 1 1, 1, 1 e poi possiamo mettere corridoio 2 e poi vado ad assegnare appunto a const di posto uno di questi elementi ora a questo punto se ora come vedete sì questa soluzione è abbastanza efficace ma come possiamo vedere Io mi ritrovo nella posizione che se comunque assegnassi a posto il valore di 4, non ci sarebbe assolutamente alcun problema, tutto quanto funzionerebbe. Ora, quello che si può fare in TypeScript per andare a risolvere questa soluzione è quello di andare ad avere che banalmente, cioè banalmente, che andiamo a definire quello che è un inam. Il posto avrà come valore finestrino, centrale e corredonio. Ora, a questo punto io mi ritrovo che se facessi un over su questi elementi mi ritrovo appunto con i valori che corrispondono a 0, 1 e 2. Io a questo punto posso andare a dire che il posto è di tipo posto e quindi io posso andare a assegnarli come valori o appunto 0, 1 e 2 oppure posso andare a utilizzare posto punto finestrino e questo andrà a restituirmi appunto quello che è il valore di 0. Posso andare a segnare i valori che voglio, se io qua voglio metterci 32, come vedete tengo 32, 33 e 34. La differenza invece se andassi a inserire un valore che è, ad esempio, A, loro hanno un errore perché devono essere inizializzati a loro volta. Vado a dargli C. La differenza sostanziale è che io qua non posso andare a assegnare direttamente quello che è il valore di A, ma devo per forza passare da quello che è posto punto finestrino. Un'altra cosa molto importante a notare è quello che effettivamente succede al mio codice. Utilizzando la struttura appunto che definisce questo come una costante di posto ottengo qualcosa di abbastanza sensato rispetto a quello che è il javascript che vado a scrivere. Occhio che se io andasse a eliminare quello che è la costante di posto, quindi non è più una costante ma è la definizione di un inam, ecco che ottengo la definizione di questo tipo di struttura che, a parte che prevede molto codice, ma ci ritroviamo di fronte a quella che è una ifi. Una ifi altrone è che è una funzione che viene invocata non appena viene definita, quindi la definizione della funzione e la sua invocazione sono direttamente successive. Va a andare a definire quello che è un oggetto posto che avrà questi valori al suo interno. Questi sono un po' gli inam, ammetto che sono una struttura abbastanza strana, ci sono soluzioni alternative per andare a ottenere questo tipo di risultato, però per chi si inciamperà in questo tipo di codice o ha bisogno di avere una restrizione abbastanza forte di quelle che sono la tipologia di valore che può assumere una certa costante, un certo valore, che debbano essere dentro un range di valori da noi prestabilito, l'inam sono sicuramente una scelta comunque valida. Dopo inam e tuple andiamo a chiudere questo capitolo di basi, quindi andiamo ad appropriarci di tutti gli elementi basilari, tutti i blocchi minimi del mondo di TypeScript per poi andare a vedere come configurare un progetto. L'argomento in questione sono appunto le interfaces. Le interfaces come vedremo sono abbastanza simili ai types, poi andremo a vedere di per sé cosa cambia da un tipo di dichiarazione a un'altra, ma andiamo subito a dichiararne una. Andiamo a definire che abbiamo la nostra interface, chiameremo user, apriamo le parentesi graffe, diciamo che ha un nome che è una stringa e poi possiamo dire banalmente che ha una mail che a sua volta è una stringa. Se andassi a creare uno user chiamandolo appunto user e solo gli stai piangendo uno perché non ha i types al suo interno, ma potremmo anche andare a fare questo trigo, quello che ci dice è che giustamente mancano degli elementi, quindi andiamo ad aggiungere come nome Mario e come mail ci mettiamo m.it, tanto non è così importante. Uno dirà, vabbè, ma io a sto punto posso andare a fare type, ci aggiungo un bel uguale e siamo allo stesso punto. E effettivamente di per sé ha ragione e infatti type e interface sono molto 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 simili, sono quasi comunque la stessa cosa, possono essere utilizzate diciamo quasi per le medesime dichiarazioni e definizioni di type. Ma torniamo alla nostra versione con le interfacce. Cosa possiamo vedere se lo osserviamo con un po' più di attenzione? Che si avvicinano più o meno a quella che è la dichiarazione di una classe. Attenzione che però questo non ci dice niente di come questa vada implementata. Ci dice che questo elemento può avere appunto questi parametri e può avere inizializzati magari dei metodi. Mettiamo caso che io volessi appunto avere il login, che è un metodo magari non obbligatorio, vado ad avere una funzione che magari, vabbè, ritorna a quella che può essere una stringa. Ora io qua non ce l'ho definito, non mi serve, però andando a definire vado a dire che c'è login che finalmente ritorna quello che è login, perché deve ritornare quella che è una stringa. Quindi questo non va a dirci appunto come funziona la nostra interfaccia di utente, sa solo che deve avere dei parametri e appunto inizializzato quello che è un metodo. Volendo possiamo andare appunto a definire logout, dicendo che magari questa volta deve prendere quello che è un param, diciamo che di tipo stringa, e ritornare magari in maniera stupidissima anche qua una stringa. Dobbiamo metterlo non obbligatorio, è un po' strano questo scritto, ma è per farvi vedere un'altra alternativa. E adesso ne andiamo a dichiararci quello che è il nostro metodo di logout. Vado a dire che deve ritornare logout. Io qua posso scrivere anche Gianni, ok? Non sono obbligato a scrivere param. Devo solo poi far sì che quando appunto questo metodo verrà richiamato, io debba passargli quella che è una stringa. Occhio che se io appunto andassi a rimuovere questo parametro, vedete che lui comunque non piange in nessun modo, e quando poi vado a chiamarlo, qua devo andare prima a controllare che esista user.logout, prima di andarlo a chiamare perché abbiamo detto che potrebbe essere undefined. User.logout. Allora appunto esistesse, noi andiamo a chiamare il nostro logout. Lo andiamo a scommentare e diventa un pochino ambiguo, perché io posso definirlo senza nessun parametro, però poi lui comunque vuole un parametro, quindi diventa abbastanza ambiguo nella sua definizione. Ovviamente poi posso andare a passare tutte le tipologie di definizioni che abbiamo visto per i type, quindi se voglio dire che questo è read-only ed è il solito id, io poi vado a definirlo, no? Ho possibilità di fare appunto esattamente le stesse cose che posso fare nei type. Un qualcosa che sicuramente ci permette di differenziare questi elementi, se io appunto avessi questo elemento che è un type di user, quindi lo definissi come type user2, diciamo, e ci si che è uguale a questo, ecco, a questo punto se io volessi estendere quello che è il mio type, devo andare a dire che type user3 è uguale a user2, e poi vado a dirgli che appunto ha al suo interno Google ID, che appunto è una stringa, e in questo modo vado ad estendere il mio oggetto. Con quelle che sono le interfacce, io posso andare a estendere in una maniera un pochino più dichiarativa. Posso andare banalmente a riscrivere quello che è il valore dell'interfaccia, come dire che interface user, posso andare a ripetere le parentesi, come vedete non mi segnala nessun errore, e vado a raggiungere quello che è il Google ID. Mi viene segnalato un errore, e allora vado a raggiungere quello che è il Google ID. Ecco, in questo modo io posso andare a riscrivere l'interfaccia in una maniera un pochino più veloce, più simpatica. Almeno qua dipende, ci sono pregi e difetti di questa scrittura. Sicuramente questa è un pochino più macchinosa, però all'occhio io vedo che sto estendendo un'interfaccia ed è molto chiaro quello che stia estendendo. In questo modo invece posso estendere un'interfaccia a quasi in qualsiasi punto del codice. Quindi è un pochino più bella, nel senso che è semplice da utilizzare, però è un pochino meno dichiarativa. Poi devo andare a riprendere dove è user, magari da un'altra parte lo è estesa, poi devo riestendere un pochino un casino. Quello che ci porta a risolvere questo problema, per andare a creare, diciamo, quello che è questo tipo di comportamento, viene dato da quella che è la proprietà dell'eredità, dell'inheritance, che è la stessa un pochino del classico. Vedete, come dicevamo, le interfacce si comportano un po' come le classi. Se appunto io avessi qua interface admin, io posso andare a dire che estende quella che l'interfaccia di user e si porta dietro quello che è il valore di ruolo, appunto uno va a dargli ruolo. Posso estendere più interfaccia, appunto, se io qua avessi l'interfaccia, chiamava anche questa qua admin, facciamo così, admin, che non estende niente, ha semplicemente il role di string. Se io voglio andare a creare quella che l'interfaccia di superadmin, superadmin, io vado a dire che il mio superadmin estende user e admin. In questo modo, se io andassi appunto a, lui qua non ha role, ma a, diciamo, is superadmin boolean, forziamo addirittura a true, se io qua vado a definirlo come superadmin, io qua devo andare ad aggiungere quello che è il valore di role, dicendo che appunto è un admin, è il superadmin, ma true. E lui va a estendere completamente questa interfaccia, partendo appunto da altre due interfacce. Quindi queste sono principalmente le differenze tra i type e le interfacce. Quindi le interfacce assomigliano molto ai type, e soprattutto anzi i type assomigliano molto alle interfacce, perché sono arrivate prima le interfacce. E diciamo che le principali differenze sono nel metodo, di riscrittura. Un type una volta definito non può essere riscritto, come invece può essere riscritta o comunque estesa in maniera molto veloce un'interfaccia. E il modo in cui si estende un type, si genera un nuovo type, è differente, ha delle parole chiavi differenti. Banalmente qua abbiamo quello che è un end operator, mentre qua non apra la chiave di extends. E questo avvicina molto le interfacce, a quelli che sono i comportamenti, le proprietà di una classe. E' bene ricordarsi poi che di per sé le interfacce non vanno in nessun modo a dire come si comporta poi la classe o l'oggetto che va a implementare la nostra interfaccia. Va semplicemente a dire cosa debba essere definito e cosa no. Poi come essi si comportano sta a noi. Infatti questo l'abbiamo visto nella scrittura appunto di questo metodo di logout, dove io posso andare anche a togliere nel momento in cui vado a implementarlo quello che è un parametro che ho marcato come obbligatorio in questo punto. Lui comunque poi ritrova una stringa e quindi il metodo si comporta come previsto. Lui non interessa poi nell'astrologica come si comporta. Basta che esista e che ritorni il type di cui abbiamo bisogno. Siamo giunti al momento in cui dobbiamo e possiamo andare a configurare realmente quello che è un progetto scritto in TypeScript. Questo mi porta a dover fare una premessa per chi pensasse o comunque volesse chiedere che di andare a poi realizzare TypeScript per React, TypeScript per Angular, per Vue, per quello che uno vuole utilizzare. Questo non è possibile, non esiste. TypeScript per React, TypeScript per Vue, TypeScript per Angular, TypeScript e TypeScript. E come JavaScript, non è che esiste JavaScript per React, JavaScript per Vue, JavaScript per Angular. JavaScript e JavaScript è un ecosistema. Nello stesso modo TypeScript. Dipende poi da come lo andiamo a configurare. Possiamo poi andarlo a configurare in modo che il nostro progetto è in React e viene poi emesso del codice appunto che è compatibile con React, con Vue, con Angular. Ci sono delle differenze nella configurazione appunto alla base del progetto ma non esiste il TypeScript per React e TypeScript punto e basta. Quindi questo è il primo punto. Ma andiamo ora finalmente a configurare quello che è il nostro progetto. Faremo una folder che chiameremo 02 Real TS, chiamiamolo così. Sposto un attimo il microfono. Real TS e ora andiamo a vedere come si configura un progetto. La prima cosa che dobbiamo fare è andarci sicuramente a spostare all'interno di quello che è Real TS. Quindi andiamo... Siamo già dentro Real TS. Ok? Siamo dentro la nostra folder di Real TS. La prima cosa appunto da fare è andare a lanciare un comando tsc dash dash init. Questo andrà a creare all'interno del nostro... della nostra folder di riprimento un file chiamato tsconfig.json che è ciò che ci permette di configurare come vogliamo appunto che il nostro javascript poi venga compilato come typescript verrà compilato in javascript. Abbiamo qua una serie appunto di informazioni. Qua abbiamo questo target che va a definire che tipo di javascript andremo ad emettere e in questo caso andrà a utilizzare yes next e poi andiamo a definire appunto che javascript verrà emesso quale versione di javascript vogliamo andare appunto a emettere se vedessimo cosa ci succedisce di compilare come vedete abbiamo 2015 2016 e tutto quello che ci pare e piace qua sta a ognuno scegliere cosa deve andare a emettere rispetto appunto al tipo di progetto su cui sta lavorando poi sotto sotto a questa voce fanno riferimento tutte quelle impostazioni e configurazioni che aiutano a typescript a individuare il linguaggio che stiamo utilizzando con quale libreria o con quale framework per andarlo poi a compilare ed emettere nella versione giusta quando andrà appunto a fare il transpiling verso javascript qua abbiamo una serie di configurazioni che riguardano la risoluzione dei moduli insomma sono tutte configurazioni che riguardano il singolo caso secondo il progetto con cui stiamo andando a lavorare possono anche tranquillamente essere cancellate quasi tutte al nostro caso non ci serve quasi veramente nulla ma come si fa appunto a configurare un progetto molto molto basilare beh quello che ci servirà sarà sicuramente in primis quello di avere un file appunto index.html andiamo a lavorare con index.html classico modo di dichiarazione andiamo a ficcarci un bel punto esclamativo verrà fuori il nostro template di base ancora prima di iniziare non voglio avere a che fare in nessun modo con un background bianco quindi andremo a fare una dark mode terribile in cui il nostro body avrà un background color che sarà 32 bravissimo e avremo poi color fff e poi andremo a posizionare qua il nostro script per andare a fare l'inject del nostro javascript javascript quindi script src source e andremo a dirgli dist slash index dot j s deve essere così ok in questo momento non ci sarà nulla questo perché dobbiamo andare a creare poi diverse folder tendenzialmente l'approccio che si utilizza è quello poi di avere quella che è una folder che si chiama source e una folder che si chiama possiamo andare a dire dist quello che farà appunto quello che noi faremo sarà andare all'interno di source e creare quello che è un file che possiamo chiamare tranquillamente index dot ts all'interno del nostro index dot ts possiamo metterci tranquillamente quello che è un console dot log di hello anzi bella per tutti virgola so typescript ora noi di cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno che tutto ciò che noi scriviamo nella nostra folder dist venga compilato all'interno della folder di dist come facciamo a ottenere questo risultato intanto andiamo nella folder principale ci spostiamo nel nostro file di configurazione cerchiamo l'impostazione che si chiama outdir che va a dirci come vogliamo appunto dove vogliamo più che come vogliamo che venga compilato il nostro codice quindi andiamo a metterci tranquillamente la nostra folder di dist e a questo punto possiamo lanciare il comando tsc dash dash watch senza il file successivo perché lui in questo momento avrà all'interno della root della folder in cui stiamo lavorando un file tsconfig.json lo cercherà e andrà ad utilizzarlo per compilare il nostro codice ora vedete che all'interno di dist ci ritroviamo con il nostro il nostro console log bella per tutti su typescript a questo punto all'interno del nostro index dot html abbiamo andiamo a utilizzare il nostro file .js non typescript possiamo andare a lanciare il nostro server io per fare questo utilizzo l'estensione live server che serve banalmente a lanciare un server adesso non mi ricordo dove sia ma sarà da qualche parte live server uno utilizza questa estensione e ti permette di a partire da un file html o col tasto destro con open with live server oppure premendo un bel go live in questo punto adesso mi ricorda sicuramente sullo schermo abbiamo sbagliato infatti ha fatto esattamente questo ci portiamo il mio schermo incredibile pazzesco qua e andiamo a fare l'inspect e troveremo all'interno della nostra console assolutamente nulla abbiamo sbagliato molto probabilmente l'import ah src eccoci qua ora adesso ci tutto quanto ok bella per tutti so typescript quindi il nostro progetto ora di per sé è funzionante sia appunto qua scrivessi qualsiasi cosa lo portassi avanti mettiamo qua sotto typescript is working il caso che non vuol dire nulla lui lo va a compilare automaticamente anche una data watch va a ricompilare ogni volta che salviamo e noi a questo punto siamo in grado di lavorare con quello che è un progetto in typescript ora che abbiamo il nostro bel progettino configurato possiamo andare avanti ad entrare in un pochino di topic avanzati quello di cui parleremo ora saranno proprio le classi andiamo a chiudere questi file che oggettivamente ci servono a poco il file index.html possiamo tenerlo aperto cambia cambia poco e andiamo ora a sviluppare quelli che questo qua guarda facciamo che lo lascio esattamente così e noi andiamo a compilare i file il file index.html non sarà in grado di fare una reproduction di tutto quello che metteremo ma tanto a noi non è che serve più di tanto in questo momento vedere cosa succede visto che non stiamo lavorando con il DOM ma stiamo andando a vedere degli argomenti come le classi quindi andiamo a crearci il nostro file classis.ts andiamo in questo punto automaticamente siamo ancora in watchmod e lui va a creare quello che effettivamente è il nostro file classis.js indovinate che classe andremo a creare andremo a creare la nostra class di user user quindi user andremo a dichiarare che avrà al suo interno come come sempre non fidatevi del mio linter in questo momento cioè veramente fidatevi del mio linter ma non è quello che andremo a fare in questo momento andiamo a vedere come si dichiarano effettivamente le cose andiamo a dire name che vogliamo che sia una stringa seguito dal fatto che vogliamo che email sia a sua volta una stringa anche andando avanti avendo questa scrittura ci rendiamo conto che ci viene mostrato un errore perché? perché ci dice che nonostante il costruttore comunque sia corretto e andrà ad accettare quello che è name e email per andare a generare una nuova istanza di una classe ci viene segnalato però che user effettivamente non ha quello che è una proprietà name in se stessa appunto user non prevede di avere un nome e una mail qual è la soluzione? una soluzione molto semplice è quella di andare a definire appunto email come una stringa e name appunto come una stringa a questo punto la nostra classe è pronta se io andassi appunto a creare quello che è const user creiamo un nuovo user mail avremo m chiocciola non è facciamo m chiocciola m punto it andiamo a chiudere il nostro costruttore e ora la nostra istanza di user è effettivamente attiva e funzionante anche all'interno delle dichiarazioni delle classi possiamo proprio andare a definire i singoli elementi secondo quella definizione di appunto ridolli che ci siamo dati anche nei types dell'interface e abbiamo altre due parole chiave una è public public è una parola chiave che va a definire che questo elemento è pubblico ovvero accessibile dall'esterno ci si può accedere di default quando noi andiamo a dichiarare un elemento all'interno proprio del nostro della nostra classe di default viene marcato come public quindi se io non marco un elemento come in questo caso name lui di default comunque sarà public quindi accessibile console.log.user.email e facciamo anche di name saranno entrambe accessibili dall'esterno perché saranno di default public volendo anche qualora appunto andassi a dichiararlo appunto ridolli li ho messi al contrario quindi public ridolli c'è un ordine che ci viene segnalato anche in questo caso lui comunque sarà accessibile non sarà possibile andarlo a modificare mentre name invece sarà possibile andare a modificarlo e dire che sarà giondo non avremo nessun errore in questo caso mentre per mail non sarà possibile andare a dire che sarà uguale ad esempio a vuoto perché è marcato come ridolli ricordo sempre per l'ennesima millesima centomillesima volta che se poi una volta io invece che vado all'interno del mio file c'è yes invece viene modificato e in realtà se ne fotte è solo un avviso che non si può fare ma in realtà poi javascript lo fa lo stesso l'altra parola chiave che noi abbiamo di cui dobbiamo tenere conto è private private va a marcare un elemento come neanche accessibile da all'esterno della classe quindi non posso neanche andare ad esempio con solo gare è un elemento privato che va utilizzato solo unicamente all'interno della nostra classe quindi poi lo possiamo utilizzare solo per andare a fare operazioni ma all'interno della classe dall'esterno appunto non è accessibile quello che si vede spesso diciamo da quelli che sono definiti i pro a parte scherzi a parte un modo molto utilizzato è andare a definire gli elementi all'interno di un costruttore per evitare appunto avere questo disname disemail questa serie di scritture è quello di andare a definire nel costruttore come essi siano quindi avremo public name e private ad esempio email in questo caso email non è accessibile possiamo andare a cancellarlo in questo modo perché non possiamo accedervi se andiamo a vedere come viene compilato il codice in javascript ecco che va a riprodurre esattamente la stessa scrittura di prima quindi questa scorciatoia viene spesso diciamo dichiarata magari in questo modo in modo che sia un pochino più più palese il fatto di avere questo tipo di scrittura si può vedere spesso organizzato in questo modo in modo che sia un pochino più visibile effettivamente che uno va a inizializzare queste variabili come se fossero this e quant'altro però anche scriverlo in questo modo è abbastanza esplicito per chi conosce proprio typescript ovviamente può esserci un mischione quindi io posso avere private ad esempio siti che sia una stringa cosa molto importante quando vado a fare un adegitore di questo tipo e non è evidenziata nel costruttore io devo o passargli un valore di default come in questo caso allora lui sarà contento e non piangerà nel caso invece non passasse un valore di default io devo andare a dire che siti siti è di tipo stringa e andare a valorizzarlo all'interno magari poi è opzionale posso andare a utilizzarlo in questa maniera o comunque deve essere comunque la regola è che deve essere valorizzato all'interno poi del costruttore quando vado a dichiarare questo tipo di variabile all'interno di una classe che andrà a generare un'istanza quindi ricapitolando in maniera molto molto veloce il modo più comune di andare a dichiarare quelli che sono utilizzando typescript delle classi gli elementi all'interno della classe la realtà di una classe è andare a dichiarare all'interno del costruttore ma banalmente non perché sia meglio migliore ma perché poi riproduce lo stesso tipo di scrittura e quindi è più breve da scrivere rispetto a che poi ripetere di se quant'altro andare a dichiarare la tipologia qua sopra in altra attiva possiamo andare a dichiarare prima di andare a definire il costruttore la tipologia di elemento che accetterà il nostro costruttore deve essere poi valorizzato all'interno del costruttore se la vado a dichiarare prima di esso e poi ho delle parole chiave che mi servono per andare a marcare appunto la tipologia di valore che assumerà poi la variabile di un'istanza comunque un valore stesso della classe che sono public che è la parola chiave che rappresenta un oggetto accessibile dall'esterno della classe che appunto è pubblico e può anche essere modificato comunque vi si può in generale accedere dopodichè abbiamo private che va definire quella che è una variabile che è accessibile utilizzabile solo all'interno della classe stessa non è utilizzabile dall'esterno della nostra classe questo sempre unicamente secondo quello che è TypeScript una cosa molto stupida e importante una cosa che magari qualche volta capiterà di vedere è che questa scrittura in poche parole è l'equivalente di andare a scrivere in JavaScript in JavaScript questo asterisco questo asterisco significa che la variabile è private in JavaScript questo è l'indicazione che si utilizzava per dire che è una variabile di tipo private vediamo se sono matto o è ancora tutto vero ok siti appunto non è accessibile appunto ok siti è appunto un private questo tipo di scrittura vuol dire private come potete immaginare non è così dichiarativo scrivere in questa maniera e dichiararla come private quindi si preferisce sempre utilizzare quella che è la scrittura di private rispetto all'utilizzo di un asterisco perché quello non è TypeScript ma è il modo di dire che sono private in JavaScript in più JavaScript voilà l'argomento successivo quando parliamo di classi sono i getter e i setter diciamo che JavaScript non è un linguaggio principalmente orientato agli oggetti forse questa parte qua si sarebbe sicuramente servirà sicuramente nella parte di scrittura del codice ma la vedo molto più come un qualcosa che fa capire che avete che si è capito come funziona TypeScript eventualmente è un possibile colloquio è un possibile interview andiamo però ora nell'argomento dei getter e i setter diciamo che il motivo principale per andare a dichiarare e utilizzare un getter e un setter è quello di andare a esporre quelli che sono degli elementi che sono marcati come private all'interno della nostra classe verso l'esterno quindi dare un metodo per accedere appunto a questi elementi e nel caso dei setter per andare a interagire con questi elementi mettiamo caso che vogliamo andare a definire una nuova variabile private quindi private andremo anzi facciamolo si facciamolo qua che sarà course count quindi a quanti corsi un utente si è scritto che sarà appunto un number e sarà uguale a 1 ok noi vogliamo che questa scusatemi che questa appunto sia private quindi non è possibile accedervi effettivamente dall'esterno quindi se qua andassi ad avere non me lo fa neanche scrivere però course count poi mi dirà appunto che è private quindi questo non lo posso fare ma quello che posso andare a fare è andare a definire quello che è un getter quindi chiamare get course count definire una funzione andare a dire che che ritornerà quello che è appunto un number e andare a dire che ritorna this dot course count 1 va a specificare appunto che è un getter se io togliessi appunto quella che è la specifica non cambia nulla anche dove comunque credi inferire effettivamente quello che va a fare però per sicurezza è sempre bene andare a definire quello che vogliamo che questo ritorni ora a questo punto io posso andare a chiamare quello che è user dot name dot dot get course count l'importante è notare come io lo stia richiamando senza parentesi questo perché perché se mettessi le parentesi mi verrà fatto notare che questa espressione è chiamabile senza parentesi proprio perché è un getter ha l'accessorio di get davanti se io appunto rimuovessi quello che è questo elemento ecco che praticamente lo vado a definire comunque viene chiamato come una funzione ecco quello che ecco quello che è l'utilizzo un po' della parola get quello che è il suo stessa cosa posso andare a fare con quello che è un setter quindi vado a definire set course count cosa molto molto interessante da notare è che non c'è bisogno di andare a dire di che tipo ritorna il nostro setter questo perché perché un setter non non ha mai un annotation di return perché non ritorna mai niente non posso neanche andare a utilizzare quello che è effettivamente never proprio perché il set non si aspetta nessun return type perché sa che andrà solo unicamente a settare quello che è un valore io quello che posso fare è andare a controllare che magari if course count sia sempre maggiore di zero facciamo che commentiamo curse number facciamo questo gioco qua number in questo modo qualora appunto sia zero deve facciamo un trovo di un errore dove diciamo che deve essere sempre appunto maggiore di zero possiamo dire quello che vogliamo se questa condizione è soddisfatta possiamo andare a modificare il nostro curse number a questo punto io vado a chiamare user.set curse count ed ecco che anche in questo caso stiamo andando a utilizzare quello che è un setter per modificare il nostro valore quindi qua non dobbiamo andare a passare quello che è un valore perché siamo davanti a un setter ok ma dobbiamo andare a definirlo in questo modo questo ci permette di andare a modificare interagire con qualcosa che è private parlando sempre di elementi private anche metodi possono essere private quindi se avessi questo metodo che è private delete token ad esempio non mi interessa cosa faccia questo metodo però io da fuori non potrò chiamarlo così come non posso andare a chiamare quelli che sono i valori dell'istanza che vado a marcare come private questo più o meno è l'utilizzo di quelli che sono i getter e i setter quindi facendo un piccolo ripasso un getter e un setter ci permettono di permettere di interagire all'esterno con il nostro con delle variabili che possono essere private ma anche pubbliche nessuno ci impedisce di fare questo ma generalmente hanno questo tipo di utilizzo il loro vantaggio qual è? è che io posso andare ad avere della logica custom in questo punto quindi posso controllare magari che la città dell'utente che mi viene passata non sia non so Tokyo nel caso fosse Tokyo non ritorno niente perché da Tokyo non si può vedere questo perché c'è una norma legale incredibile oppure la stessa cosa di set cross count io posso avere della logica che impedisce di andare a fare alcuni set sul nostro sulla nostra variabile diciamo privata quindi sono io che detengo in pancio della classe quella che è la logica con cui voglio andare a fare l'update di questo elemento ok se poi vado all'interno di quello che è il mio file .js ecco che mi ritrovo comunque con questo tipo di scrittura che praticamente è esattamente la stessa rispetto a quella che troviamo all'interno del nostro file .js quindi non stiamo facendo niente di incredibilmente strano ora andiamo a parlare un po' di ineritance chiudiamo un pochino prima questi metodi che effettivamente non fanno nulla quindi anche il costruttore possiamo andare a chiudere un pochino tutto ci riduciamo un po' gli spazi vediamo praticamente tutto in un'unica schermata parlando un po' di ineritance io volessi appunto definire quella che è una classe che io chiamo sub user vado a dire che semplicemente va a estendere quello che è user ovviamente uno potrebbe avere tutta questa parte di costruttore che però oggettivamente a noi non ce ne frega nulla in questo caso quello che vogliamo andare a notare è che se io definissi quello che è un metodo o può essere appunto un getter quello che io voglio che va a modificare una proprietà che ho come private successivamente non lo potrò fare e quindi vediamo in un po' questa limitazione andiamo a provare a creare un metodo che si chiama change course count se andassi sia che sia un setter che sia un getter se andassi a definire questa scrittura ecco che mi inciamperò in quello che è l'errore in cui mi dice che la proprietà di course count è privata e può essere solo accessibile all'interno della classe user questo perché perché quando vado a definire un qualcosa come privato vado a dire che non solo questa variabile non è accessibile dall'esterno in generale della classe quindi in quello che può sembrare il codice svolazzante in mezzo all'editor ma non è neanche accessibile dalle sottoclassi ok quindi neanche chi eredita tutte le proprietà come appunto farebbe sub user che sub user praticamente eredita tutte le proprietà che troviamo all'interno dello user quindi ce le dà comunque tutte quante però non può a sua volta accedere a quelli che sono gli elementi private ciò che è private è accessibile solo unicamente all'interno della classe stessa in cui esso è definito qual è quindi la soluzione? la soluzione è cambiare quella che è la parola chiave poiché ne esiste un'altra apposita che è definita come protected protected va a permettere di accedere alle sottoclassi a quelle che sono le variabili o i metodi protected ma impedisce di accedervi da quelli che sono poi le istanze quindi se andassi a provare a console logare quello che è course count ottengo l'errore quindi va a specificare che è accessibile a tutti i figli diciamo di questa di questa classe a tutte le sottoclassi di questa classe tutto ciò che eredita da questa classe erediterà anche l'accesso a questo metodo e qua possiamo vedere proprio la bellezza tra virgolette di TypeScript che oltre a evitarci a priori prima della compilazione eventuali errori e permetterci di andare a risolverli prima che l'applicazione venga compilata anche la sua capacità descrittiva alla lettura del codice di darci indicazione di come e di chi può oggettivamente accedere o non accedere ad alcuni parametri questa è anche un'altra delle forze di TypeScript poiché un dev arrivando all'interno di questo file classes si renderà conto esattamente di come l'abbiamo impostato e come va poi continuamente impostata questa classe come funziona cosa non è accessibile cosa non è che non è accessibile cosa che vogliamo che non sia accessibile cosa invece abbiamo concesso di accedere anche a cui abbiamo concesso anche l'accesso dall'esterno cosa invece vi si può accedere da un'altra sottoclasse cosa fa dentro una classe insomma ci dà tutto un insieme di tool che ci permette di sviluppare comunque di creare delle classi molto molto robuste nel loro utilizzo ora andiamo a fare un buon piccolo riassunto andiamo un po a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle visti fino ad adesso lato interfacce classica cerchiamo di metterle in comunicazione quindi andiamo a creare un file nuovo per non andare a fare un disastro ulteriore in questo file che ha di per sé abbastanza complesso e lo chiameremo riassunto classi senza essere troppo fantesi di punto ts verrà creato all'interno anche della nostra folder di list e quello che andremo a fare sarà creare per primo un'interfaccia che chiameremo appunto take photo take photo che avrà al suo interno un camera mod che sarà una stringa un camera on che sarà un booleano e poi ci portiamo dietro take photo e magari take video diciamo così take video e questa sarà la nostra interfaccia se adesso io definissi la mia classe chiamiamola va bene anche fondo ma possiamo essere un pochino più moderni instagram instagram e voglio che implementi quella che è la mia classe take take photo io quello che posso andare a fare prima di tutto è notare che in questo caso la nostra classe sta piangendo perché non sta implementando in maniera corretta la nostra interfaccia implemente è la parola riservata che va a dire appunto che una classe deve implementare un certo tipo di interfaccia l'interfaccia lo scopo di interfaccia non è quello di definire come funziona ma che cosa va implementata e come esso poi ritorna gli elementi che va a che vengono implementati e qual è il loro valore assoluto che tipo di valore assumeranno quindi in questo caso andiamo a definire quello che è un costruttore che avrà appunto public camera mode e camera on che saranno appunto una stringa e un booleano e poi avrà dei metodi che sono take photo che non farà assolutamente nulla per noi e anche take video a questo punto la nostra applicazione è soddisfatta perché va appunto a implementare in maniera corretta la nostra interfaccia se io definisse un'altra interfaccia che è chiamola magari reel vogliamo che un reel abbia la mettiamo vabbè duration che è un number qualora appunto io definissi che ad esempio la classe tiktok implementa sia take photo che reel quello che posso andare a fare è di nuovo riprodurre questo metodo portandoci dietro anche quello che è il valore di public perché stiamo implementando due interfacce cosa molto importante da notare è che se io ad esempio in Instagram aggiungessi carousel un public carousel dico che è un number non mi viene impedito questo perché perché la cosa più importante di cui la mia interfaccia è che tutto questo ci sia e mai di meno se io vado a raggiungere un di più alla mia interfaccia non interessa perché io ho il bisogno che sia Instagram che in questo caso TikTok abbiano almeno implementate queste due soluzioni ok questo è molto molto importante vado a commentare temporaneamente quella che è questa classe perché voglio farvi notare qualcosa di abbastanza strano questo per farvi ben capire effettivamente quello che è l'utilizzo di queste di questi elementi se io volessi definire come abbiamo visto prima che un metodo sia private o che una funzione sia private o quello che voglio che sia private facciamo caso che io voglio che appunto camera mode sia qualcosa di private se andassi a definire in questo caso private otterrei un errore perché mi dice che il metodo private scusatemi la variabile private o comunque la proprietà private non è la proprietà color mode non è private la mia interfaccia allora vi direte va bene la vado a mettere come private perfetto vado a metterla come private e questo non mi è concesso sembrerà strano e stupido uno può provare tutti i workaround che vuole ma comunque rimarrà incastrato in questa situazione questo perché sembra un comportamento strano ma quello che è lo scopo di l'interfaccia non è dirci come questo metodo debba essere implementato il suo scopo lo scopo dell'interfaccia è dirci che deve esistere ok che deve esistere questo metodo deve essere implementato e deve essere una stringa che ci deve essere diciamo nel suo scopo quindi chi implementa deve avere un elemento camera node non ha il compito di dirci se sia privato protetto o generalmente pubblico se non è dichiarato di default è pubblico per lui però ci deve essere se io voglio che ci siano elementi private protected o comunque abbiano un valore diverso io devo toglierli da quelle che sono da quella che è la mia interfaccia perché non è compito dell'interfaccia dire come essi vengano implementati questo è molto molto importante da ricordare non è il compito dell'interfaccia dire se sia privato se sia protected se quindi può essere può concedere l'accesso solo alle sottoclassi quindi solo le classi che reeditano oppure non può essere visto dall'esterno di una classe questo è il compito della classe non è il ruolo dell'interfaccia l'interfaccia va a definire quelli che sono gli elementi minimi che devono essere implementati e resi disponibili ok questo è molto molto importante a ricordare continuiamo il nostro percorso sulle classi andando a vedere quelle che sono le classi astratte le classi astratte sono un validissimo metodo in typescript molto molto apprezzato che va un po' a completare quello che è lo spettro della definizione dei type e soprattutto è una versione secondo me avanzata di quelle che sono le interfacce ma andiamo subito a vedere quello che è una classe astratta ci riprendiamo l'esempio appunto di prima in cui andiamo a definire la nostra classe che chiameremo appunto take photo che avrà lo stesso tipo di soluzione in cui avremo appunto public camera mode e diremo che è una stringa e poi public camera on che diremo che è un booleano ora abbiamo questa soluzione che non è più necessaria e la nostra classe di per sé è pronta all'uso ora abbiamo ridefinito la nostra classe a questo punto possiamo andare a provare a creare un'istanza quindi const chiamiamola foto appunto sarà new take photo camera mode chi se ne fotte square e quelli passiamo quello che è il valore di true proviamo ad andare a passare quello che è il valore di abstract alla nostra classe e otteniamo quel errore che ci sembrava strano e assurdo ovvero che un'istanza non può essere generata da quella che è una classe astratta quindi una classe astratta non può andare a creare una nuova istanza e allora che cosa me ne faccio di questo tipo di soluzione se poi non può questa classe andare a creare nessuna istanza la soluzione che sono le nostre classiche stendono quindi che vanno appunto a godere della partita di inheritance a occuparsi di generare quelle che sono le istanze quindi instagram a sua volta invece potrà andare a creare una sua istanza quindi non potremo creare utilizzando take photo ma possiamo andarle a creare con quelli che sono i suoi figli e uno dirà ma che me ne faccio di questo questo tipo di soluzione va a portarci a rappresentare quello che è uno schema appunto di un'interfaccia quindi replica il comportamento di quella che è un'interfaccia quindi se io qua andasse a definire quello che è un metodo abstract take photo come vedete ottengo quello che è un errore questo perché perché tutti i figli appunto che partono da quello che è il valore di take photo devono per forza andare a implementare il loro metodo appunto di take photo per fare questo appunto la classe deve essere riistanziata deve essere riistanziata possiamo andare a vedere questa cosa qua che al momento non ci interessa onestamente quando poi andiamo a generare una classe nuova partendo dall'estensione di una classe precedente dobbiamo andare poi a riprodurre il costruttore e passare quella che è la parola chiave super per passare appunto alle proprietà che vengono ereditate dalla classe precedente qua non è niente di typescript e siamo proprio di fronte alla costruzione di una classe banalmente in javascript e poi andiamo a implementare il nostro metodo take photo qual è quindi il vantaggio rispetto a quella che è la creazione di interfaccia beh il fatto che un'interfaccia come dicevamo così come una classe astratta lo scopo appunto è di essere una blueprint quindi un punto di partenza uno scheletro su cui costruire tutto il resto e questo lo andiamo a generare utilizzando quello che è il metodo di abstract o la parola chiave abstract quindi funziona nella stessa maniera ma il vantaggio è che se io appunto volessi definire un metodo che si chiama show preview ecco che io vado a definire show preview show preview appunto farà console log di show preview questo è un metodo che una volta generata un'istanza io potrò avere appunto su quelli che sono tutte le classi appunto che vengono generate a partire da take photo quindi un metodo che io condivido di default con tutti con tutti i figli di questa di questa classe mentre il metodo take photo andrà ridefinito nuovamente ogni volta che creerò appunto una nuova classe a partire da take photo ogni a me non interessa alla nostra classe astratta non interessa cosa questo metodo faccia infatti io qua non vado a definire nessuna logica in questo metodo deve solo esistere e ritornare appunto void poi ogni classe andrà a definire il suo metodo di creare una foto e questo sicuramente è il primo vantaggio quindi ci dà sì la possibilità di indicare così come con le interfacce come vogliamo che sia creata la nostra classe ma ci dà anche la possibilità di andare a dare dei metodi di default che sono comuni a tutti i figli di questa classe dopodiché come abbiamo anche visto posso andare appunto anche a avere una definizione un pochino più semplice di quelli che sono di quelle che sono le variabili con protected private che abbiamo visto che giocando con le interfacce non è così intuitivo andare a lavorare con queste parole chiave e posso poi andare nelle mie classi o volendo appunto a riscrivere quello che il metodo di show preview posso andare a riscrivere e dire che torna show ig e poi posso andare a fare tutto il mio giochino di get photo taken e fare tutte quelle operazioni che abbiamo visto che possono essere appunto fatte con quello che è i nostri getter e quindi con le classi astratte diciamo per assumere un po' quello che succede una classica quando viene definita astratta non può andare a generare un'istanza a partire da se stessa ma solo appunto i suoi figli potranno tutte le classi che stendono a partire da quella che è appunto una classica astratta loro potranno generare delle istanze mentre la classe astratta non potrà generare istanze nella classica astratta generalmente non si vanno a implementare dei metodi ma si va a definire quello che vogliamo che effettivamente ci sia marcandola come con il metodo abstract il metodo abstract su take photo obbliga tutti i figli che stendono a partire da take photo ad andare a istanziare o comunque avere in se stessa definire un metodo chiamato take photo che l'importante non è la logica che c'è all'interno ma che ritorni void abbiamo poi il piacere di poter a differenza dell'interfaccia andare a creare dei metodi o comunque alcuni elementi come appunto photo taken o show preview che sono condivisi appunto a tutti a cui comunque possono accedere e possono essere ereditati da tutti appunto i figli della nostra classe quindi sono il metodo forse un pochino più avanzato che ci fa godere di tutti i benefici della definizione dei type quindi di avere uno scheletro come se fosse un'interfaccia e la flessibilità di andare a definire all'interno delle classi grazie alle prole chiave di protected private e public tutte le proprietà che la nostra classe andrà poi a istanziare sulla sua istanza ora ritorniamo di fronte alla nostra documentazione e il prossimo argomento che andremo ad affrontare saranno i generics i generics ci permettono di andare un po' a ragionare in ottica un pochino più componentistica del nostro del nostro codice poi per componente non intendo componente react intendo tutti i componenti quindi tutte delle parti di codice che possono essere riutilizzabili di cui abbiamo bisogno di ottenere da essere la massima flessibilità e questo è ciò che vanno a fare i nostri generics scriviamo un pochino di occhi insieme e poi andiamo a fare qualche esempio per andare a capire quello che è il problema che questo tipo di soluzione cerca di andare a risolvere partiamo dal fatto che in tutti i linguaggi che sono tipizzati i generics sono presenti come in C Sharp e in Java e sono appunto uno degli elementi chiave alla base della creazione di componenti che sono generici per cui molto flessibili e riutilizzabili in base a quello che è il nostro codice guardando un po' quello che è la documentazione quello che possiamo vedere è che il nostro il problema che cerchiamo di andare a risolvere è il fatto di avere una funzione che come sappiamo può essere tipizzata possiamo dire che tipo di parametro accetta e che cosa ritorna però magari ho bisogno appunto di avere della flessibilità da questo tipo di funzione quindi che se ripassassi una stringa lui deve ritornare una stringa se ripassassi un booleano vorrei che lui comunque ritornasse quello che è un booleano e così dicendo una soluzione popabile che effettivamente risolverebbe a tutti gli effetti il problema è la dichiarazione di Eni in cui quindi posso passare a questa funzione tutti quelli che sono i tipi che mi pare piace e lui andare a ritornarmi in un tipo Eni quindi che sarà adattabile in tutte le soluzioni però come ci siamo detti all'inizio Eni è un mostro da cercare di utilizzare il meno possibile e diciamo il nemico di Tartit quando usi Eni se in un caso in cui non c'è veramente nessun'altra soluzione possibile se non andare a posizionare un bel Eni perché il nostro compito non è quello di andare a far sì che TypeScript non pianga ma di andare a ottenere la massima flessibilità possibile e dall'altro lato dare le maggiori garanzie possibili a tutti gli altri sviluppatori che lavorano con noi ma anche a noi stessi su quello che verrà passato e quello che verrà ritornato quando si interagisce con delle funzioni o comunque degli elementi o comunque delle classi insomma con gli elementi con cui stiamo lavorando come si risolve questo problema adesso andremo a vedere insieme lato codice però con quello che è appunto un generis che si distingue da questo tipo di scrittura ok queste parentesi angolari indicano che stiamo andando a lavorare con un generico partiamo dal fatto che noi un generico l'abbiamo già visto e nella definizione degli array abbiamo visto che c'erano due modi per definirlo e un appunto era anche questo quindi in questo modo appunto abbiamo già utilizzato in maniera involontaria quelli che sono dei generici quindi una struttura generica che poi va ad accettare al suo interno una tipologia di parametro che va poi ad aiutarci a definire quello che è l'oggetto quindi se io poi avessi const t vado a dire che t è di tipo array string allora poi dopo t tranquillamente sarà questo se lo copio e lo porto giù ci passo qua quello che è mettiamo cc e li passiamo quello che è il valore di number io a questo punto posso andare a sapere che questo è un array di numeri questo è l'assoluto questo è il modo in cui abbiamo già interagito con i generics ma torniamo al nostro problema il nostro problema appunto qual è? è che se andassimo a definire la nostra funzione chiameremo identity oh a scancellare ok identity se andassimo a definire la nostra funzione appunto identity avremo che il nostro argomento sarà di tipo any e ritornerà any e ritornerà il nostro argomento quindi se io andassi a lavorare appunto con quella che è la mia funzione di identity non saprei mai cosa effettivamente mi viene ritornato se io ho bisogno di avere la garanzia che quando lavoro con questo tipo di funzione quando ti passo un numero tu non mi ritorni una stringa o quando comunque ti passo una stringa non mi ritorni un numero io da fuori non ho questo tipo di garanzie e tutto quanto passerebbe poi all'interno nel corpo della funzione qual è la soluzione la soluzione è andare a utilizzare quello che è un generico identity identity 2 sarà uguale a quella che la scrittura di cerchiamo di essere un pochino più espliciti all'inizio si aprono appunto queste parentesi angolari e si va all'interno a scrivere generalmente o type ma la convenzione vera è utilizzare t ed è una convenzione che può scriverci anche mario qua dentro non è assolutamente importante però per convenzione si utilizza t oppure type in questo caso rimaniamo su type per essere un pochino più espliciti dopodiché si va a dire che l'argomento sarà di tipo type ritornerà a sua volta quello che è un bel type e poi noi ritorniamo quello che è il nostro argomento questa scrittura cosa vuol dire vuol dire che se io andassi a utilizzare usassi identity 1 mi ritroverei con quello che è la corrispondenza di any utilizzando identity 1 se usassi identity 2 la magia è che adesso io qua avrò il valore di 1 questo perché perché andando a definire questo tipo di scrittura io dirò alla mia funzione di identity 2 che gli sto passando un parametro che è di tipo type e quindi che gli sto andando a passare in questo caso gli passo un numero ovvero comunque 1 e che lui ritornerà un type della medesima del medesimo tipo in questo caso 1 perché è una costante se magari avessi let mi troverei con di fronte quello che è il valore di number quindi gli sto passando di tipo number il parametro quindi il parametro che passo è di tipo number ok e mi verrà ritornato un numero se gli passassi appunto ha identity 2 quello che è il valore di 1 lui mi andrebbe a ritornare il tipo di string quindi so che sto lavorando con una stringa so che sto lavorando con un numero e questo mi permette di lavorare in maniera efficace con il mio codice anche su qualcosa di così generico se gli passo una stringa mi ritorno una stringa se gli passo un numero mi ritorno un numero e soprattutto oltre a fare questa cosa qua che dal codice è evidente è anche utilizzato quindi se non lo trovo in mezzo al corpo di una funzione questo valore se non è del valore che serve poi essere utilizzato nel mio script di codice che mi servirà più avanti in cui utilizzerò questa funzione verrò avvisato e avrò un errore preventivo questo è l'utilizzo generale dei generics si può anche andare a fare con quello che è un proprio type personalizzato quindi definisi type persona persona appunto un nome e un age io posso andare a chiamare appunto let persona e posso dire che è uguale a identity 2 devo aprire le parentesi angolari in questo caso non come prima perché sto utilizzando sto passando un type custom che ho creato io quindi vado a dire che sarà di tipo persona e poi dopo andrò a passare cose a caso in questo caso name 1 age 1 e lui mi dirà che persona è di tipo persona se io qua non passassi quello che è il valore di persona mi troverei di fronte al fatto che persona è un oggetto che ha name e che è una stringa age che è un number non troverei il fatto che è una persona ok questa è la differenza perché si va a passare in questo punto effettivamente questa parentesi angola raggiuntiva rispetto a questo tipo di definizione ok ho bisogno di avere più struttura perché il type è custom e io posso andare a ritrovarmelo sul mio oggetto come se per essere una funzione che è const non so login che accetta come parametro param è a una persona ritorna void che ne so void chi se ne frega in questo caso io posso passare al mio login il valore di o name oppure li posso passare quello che è il valore di persona in questo caso e posso ottenere questo tipo di scrittura molto probabilmente in questo caso così semplice funzionerebbe anche se io qua non avessi questo tipo di scrittura perché quello che richiede è molto molto semplice in caso è un pochino più strutturati invece questo tipo di scrittura è un pochino più necessario ora continuiamo il nostro lavoro sui generics vedendo due cose a come si definisce una funzione normale non solo un arrow function perché vi ho fatto vedere solo come si definiva un generics su un arrow function e non su una funzione normale come è fatto banalmente come è fatto nell'esempio ma andiamo a ripetere quel tipo di scrittura e ci scriviamo la nostra function identity 3 utilizziamo il completatore questa volta che ritorna che diventa un pochino più semplice e quello che si va a fare rispetto all'arro diciamo che è praticamente quasi uguale abbiamo subito in chiusura della funzione generica della funzione classica appunto l'apertura delle parentesi angolari e poi il resto del corpo comunque è abbastanza semplice mentre all'interno di un arrow function abbiamo dopo l'uguale la scrittura di quello che è appunto il nostro generico e poi il ritorno prima appunto di avere l'utilizzo dell'arro in questo caso abbiamo il ritorno prima dell'apertura delle parentesi quindi questo è come si definisce un generico su una funzione classica andiamo ora a vedere alcuni problemi che ci sono con i generics e come possiamo andare a utilizzarli al meglio per appunto alcune casistiche dove dobbiamo essere un pochino più specifici facciamo ad esempio di voler utilizzare quelli che sono i nostri array quindi avremo la nostra function identity array in cui avremo il nostro appunto type utilizziamo un po' la scrittura contratta di t in cui avremo quello che è il nostro argomento che uno appunto dice ok si prende il type di cui ho bisogno va a ritornare il type di cui ho bisogno e in questo caso poi dopo ritorna il mio type perfetto ci siamo tutto a posto quindi in questo caso se li passassi un bel array no lui comunque potrebbe funzionare quindi se passassi a let chiamo a solo var e li passassi identity dai identity array ecco che non ho scritto identity identity identiti identiti identity array tutto quanto sembra funzionare perfettamente io in questo punto mi ritrovo con come elemento ritornato un bel array di numeri come previsto ma se io all'interno del corpo della mia funzione volessi provare anche solo a fare un controllo if arg arg dot length è maggiore di zero ecco se io volessi fare anche solo questo controllo mi ritroverei col fatto che length non esiste sul tipo di t insomma uno può andare a consologare questo questo valore qua abbiamo un altro problema il problema è che non esiste il tipo di la proprietà length sul mio array ma come non esiste sugli array length esiste sempre non esiste perché ovviamente esiste e tutto funzionerebbe in javascript sarebbe tutto corretto non ci sarebbe nessun problema se gli passassi con un array però lui non sa qua che tipo di oggetto che tipo di dato gli arriverà quindi potrebbe essere una stringa un numero quindi è giusto che lui non sappia cosa stia succedendo qual è la soluzione la soluzione è andare a dire che l'argomento con cui lavorerò sarà un array quindi t classica scrittura appunto di un array e lui in questo caso ritornerà t cosa vuol dire che ritorna t vuol dire che ritorna un unico elemento del mio array quindi io gli vado a mettere qua 0 in questo caso tutto sta funzionando lui come ritornerà a sua volta però un numero non un array questa scrittura se volessi ritornare appunto un nuovo array io dovrei appunto andare a ritornare qua direttamente il mio argomento magari vado a fare non so dot filter filter tolgo tutti quelli che sono il passo poi boolean in questo modo tutti gli elementi appunto che sono comunque soprattutto gli elementi che saranno a 0 perché il nostro array di numere comunque che sono null verranno poi eliminati avrò un array senza null andefine 0 e quant'altro e posso andare appunto a fare questo tipo di operazione occhio appunto a questa scrittura non confondetevi questa dichiarazione altro non vuol dire che io sto dichiarando un generico ok vuol dire che il primo parametro che passerò sarà utilizzato come generico che tipo di parametro esso sia lo vado a definire appunto nell'argomento l'argomento quindi sarà un array di questi generici ok sta lavorando con un array e ritornerà un array o il singolo elemento in questo modo quando vado a lavorare con il mio array so benissimo che esiste la proprietà length posso fare i miei controlli e poi giocare con quello che oggettivamente voglio ok molto molto importante questo concetto ora sempre armati della nostra incredibile documentazione andiamo ora a vedere come lavorare sia con le classi insieme ai generici come creare delle classi generiche e andiamo un po' a chiudere quelli che sono alcuni argomenti come l'estensione appunto l'utilizzo di più generici in un'unica in un'unica definizione partiamo da questo ultimo punto così poi chiudiamo il cerchio dell'utilizzo dei generici e poi passiamo alla creazione delle classi generiche partiamo da questo secondo punto poi andiamo a vedere come dichiarare delle classi generiche cosa possiamo notare da questo esempio innanzitutto che lui va a definire due generici quindi il primo sarà type e il secondo sarà chi e andrà ad assegnare al primo parametro appunto il type generico type e al secondo di chi in seconda battuta abbiamo questo tipo di scrittura che altro non fa che andare a dire che questo valore potrà essere ristretto unicamente solo a quelle che sono le chiavi del del type del valore di type che gli passeremo in questo caso andrà a passargli quello che è il valore appunto di x che appunto è un oggetto e accetterà come secondo parametro in questo modo quindi chi sarà ristretto solo ad essere un appunto delle chiavi del primo parametro che andremo a passare noi adesso andremo a fare un esempio un pochino più semplice per andare a vedere questo tipo di soluzioni e poi andremo a creare le nostre classi utilizzando un sistema che ci permette di avere delle classi un pochino più generiche torniamo al nostro codice andiamo qua sotto e andiamo anche a definire una funzione che sarà const double generic e noi avremo la definizione appunto di quello che è arg e arg 2 e ritorneranno una volta void questa parte qua non è così importante per noi andiamo a definire il nostro doppio generico il primo sarà t e il secondo lo chiamano u poi generalmente ci si ritrova di fronte a k v insomma io posso andare a richiedere tanti generici quanti sono gli argomenti con cui voglio generalizzare la mia funzione in questo caso ne voglio solo due ma se aggiungessi altri due parametri potrei anche tranquillamente avere 4 parametri generici in questo caso avrò t e il secondo gli assigneremo il valore di u andrò a fare le mie operazioni e quello che mi pare piace e poi potrò utilizzare i miei generici all'interno della funzione questa scrittura che notavamo qua con l'extense appunto io in questo momento posso andare appunto a passare quello che è il valore che più mi pare e piace alla mia funzione quindi 1 e 1 come stringo oppure 1 e 1 insomma io avrò questa flessibilità l'importante è che siano due i parametri andare a utilizzare questa scrittura di extense va in realtà più che a estenderlo va a limitarlo puoi andare a dire che il secondo type deve essere un numero detto in parole molto povere quello con cui si basse sull'atimità che non ha metterci uno quello per cui generalmente si utilizza questo tipo di soluzione perché con nambre ovviamente piuttosto metti qua nambre che io magari ho un type mio custom mi chiamo type persona 2 anzi posso andare proprio a utilizzare persona e vado a dire che estende quello che è persona in questo caso io potevo andare a passare poi quello che è un oggetto che avrà name e age di per sé oppure appunto posso andare a dire che deve essere una del key of persona quindi in questo caso io devo andare a passare quello che è magari il valore di quindi io nella mia definizione di generico posso andare a definire quanti generici io voglio all'interno della mia funzione a seconda di quanti oggettivamente me ne servono se avessi bisogno di restringerli a un certo tipo di tipo di soluzione che possono essere passate quindi sì generico ma con dei limiti posso utilizzare la soluzione di extends e poi passare quello che mi pare e piace ora possiamo passare alle nostre classi l'esempio qua non è semplicissimo ve ne proporrò uno io un pochino più più semplice per andare a vedere effettivamente come utilizzare le nostre classi in modo inerico mettiamo a caso che io avrò due interfacce quindi interface interface che chiameremo corsi vabbè un id non è importante quello c'è dentro e poi avrò interface video corsi id number magari qua avrò un url che ne so queste classi quindi differiscono da questo tipo di queste interfacce differiscono per questo parametro a questo punto io ho bisogno di andare a creare una classe che però sia in grado di permettermi di vendere entrambe queste due soluzioni quindi se io appunto andasse a creare una classe ho bisogno di generalizzarla quindi lo chiamerò appunto esempio non è importante come si chiama questa cosa qua non perdiamoci nel nome andrò a dire che accetta un generico e poi banalmente banalmente poi nel mio costruttore potrò dire che il costruttore accetta un valore e questo valore ha il valore di t io magari vado a dirgli che è un array facciamo così carrello lo chiamiamo il carrello sembra un pochino più sensato così diciamo che appunto accetta quello che è un valore che sarà di tipo t quindi sarà un generico e avrà all'interno dei suoi metodi banalmente il metodo add si passerà un item e lui quello che andrà a fare sarà pushare dentro il carrello il mio item ora a questo punto quello che per me sarà sufficiente fare sarà definire quello che è un carrello quindi const carrello dire che sarà new carrello gli dirò che sarà di tipo corsi e gli passerò quello che è in questo caso anche un array vuoto in questo momento non è importante in questo modo io ho istanziato la mia nuova istanza dicendo che è di tipo corsi quindi quando io qua andrò a lavorare con i miei corsi gli dovrò passare appunto un add carrello dot add e gli passerò questo se gli passassi quello che è il valore di url vedete che lui in questo caso mi dice amico mio questa cosa non sta funzionando perché url non esiste nel tipo corsi se qua avessimo invece video corsi tutto quanto filerebbe liscio in questo modo abbiamo creato appunto una classe generica che ci permette di interagire con i suoi valori e i suoi metodi a seconda del generico dell'interfaccia che andiamo a passare al nostro alla nostra classe questo diciamo che è un po' un caso limite dovessimo farlo veramente sarebbe molto più interessante andare a definire quella che è una classe astratta come abbiamo visto dare dei metodi di default e poi estendere appunto delle classi di corsi e videocorsi a partire proprio da quella classe astratta ma esistono anche esistiche chi lo sa mai in cui ci troviamo di fronte alla necessità di andare a definire una classe così generica per gestire alcuni casi limite ok eccoci qua di nuovo con la documentazione tra le mani dove possiamo vedere che effettivamente per quelli che sono gli elementi gli argomenti esposti in quello che è l'handbook abbiamo visto veramente tante cose un qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle però è questo capitolo di narrowing vuol dire restringere detto in maniera o comunque circoscrivere ed è un qualcosa che è stato fatto in maniera volontaria perché ci serviva essere un pochino più adulti nel nostro mondo di typescript che cosa vedremo 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 un po' come effettivamente si può andare a restringere gestire casi in cui le condizioni sono ambigue ed evitare di andare a lasciare errori all'interno del nostro codice facciamo prima a aprire il nostro progetto e postarci all'interno di quello che è la folder 02 realts e lanciare tsc w in questo modo rientremo in watch mode ci creiamo il nostro file narrowing dotts e andiamo un po' a vedere di che cosa stiamo parlando diciamo che sono argomenti abbastanza semplici che probabilmente sono stati già utilizzati in quello che è il mondo di javascript perché sono un po' la base di come si lavora generalmente con le condizioni per andare a individuare in che casistica ci troviamo per poi rispondere in maniera corretta un esempio molto banale è quello di andare effettivamente a utilizzare quello che è la parola chiave typeof typeof va a restituirci quello che è il type dell'elemento con cui stiamo lavorando come esempio avessi const a uguale se poi avesse una funzione che si chiama fn che accetta quello che è una stringa o un numero quello che possiamo andare a fare è avere una funzione che appunto va a controllare che il typeof sia effettivamente una stringa e solo a questo punto va ad applicare la proprietà delle stringhe per evitare appunto un errore ecco typeof ci serve esattamente a questo ovviamente andare a utilizzare typeof come garanzia appunto per andare a svolgere alcune operazioni non è per noi una sicurezza perché se appunto avessi const b che non importa può essere tranquillamente di nuovo 2 scritto in questa maniera stupida avessimo const fn2 che va ad accettare quasi la stessa situazione ma in più va a gestire il fatto che sia null ecco se vi fosse questo caso mettiamo caso anziché b per essere ancora più fastidiosi sia un oggetto scritto a 2 che non bisogna fare è il fatto di andare a controllare che if typeof a sia un object perché appunto qualora lui fosse un object e io poi andassi a lavorare dicendo che voglio appunto scusatemi a si è giusto posso andare magari a pensare di lavorare con appunto a peccato che qua lui ci va a salvare e ci avvisa che potrebbe essere anche null ma come è un oggetto ma vi ricordo che nel mondo fantastico di javascript se vado a fare typeof di null mi becco quello che è un bel object o comunque anche un bel typeof di un array mi becco un bel object quindi bisogna stare molto attenti con questo tipo di salvaguardia quello che poi viene andare a controllare è generalmente appunto che a sia uguale a uguale a null e andare a svolgere un'operazione quindi magari anche solo fare un return preventivo oppure controllare che effettivamente a esista qualora appunto a esistesse posso andare a fare delle operazioni altrimenti vado a fare un return quando non trovi una condizione in cui è null o undefined occhio anche appunto a questa casistica quello che si vede tante volte è andare a fare un check dicendo if not a e poi si ritorna subito e poi si va avanti nel corpo della funzione in questo modo si evitano di svolgere blocchi di codice che poi effettivamente svolgono controlli che non servono a nulla quindi si ritorna subito alla condizione peggiore un altro operatore molto utile è lean operator diciamo che se noi avessimo appunto quello che è un type che è un fish quello che fa il pesce è appunto nuotare se poi avessimo un type bird quello che fa l'uccellettino bello è il fatto di andare a volare ecco se io appunto avessi una function che si chiama function se avessi una function chiamata move che va a accettare quello che è un animale che appunto può essere un pesce o bird ecco che posso andare a utilizzare lean o operetto per andare a vedere se effettivamente una chiave sia presente su un oggetto quindi vado a controllare che swim sia presente nell'animale che io vado a passare quando appunto la chiave swim esistesse sull'oggetto che sto andando appunto a passare alla mia funzione move allora so che esiste questa chiave quindi sono davanti a un tipo di fish e infatti typescript va a inferire che abbiamo tra le mani un un pesce altrimenti sa che è tranquillamente un uccellettino e quindi lui potrà avere la props di fly quindi l'inoperator serve a controllare che esista effettivamente una chiave all'interno di un oggetto molto molto semplice ma molto molto efficace un altro operatore che ci può appunto servire per andare a capire con che tipo di oggetto stiamo lavorando è l'instance off instance off instance off ci permette di ricavare l'informazione se un determinato elemento sia figlio di una classe o sia stato creato da una classe quindi tutto ciò che viene creato utilizzando ad esempio new date io vado poi a creare quella che è una data ecco io posso andare a individuare da parte di chi è stato creato questo elemento oppure new array insomma tutto ciò che appunto viene creato istanziato a partire da una classe io posso andarlo a controllare quindi se ad esempio io avessi const check date se avessi quello che può essere una data e una stringa io a questo punto voglio andare a svolgere delle operazioni differenti se mi trovo di fronte a un qualcosa che è stato creato appunto con const data uguale new date di date dot now ok questo è il mio oggetto data che passerò poi alla mia funzione oppure se una stringa voglio andare a svolgere altre operazioni come faccio a sapere questo grazie appunto alla parola chiave instance off vado a fare un if in cui cerco che date sia un instance off del costruttore date qualora appunto lo fosse andrò a ritornare date utilizzando poi uno dei metodi che è creato all'interno nel costruttore del nostro costruttore date altrimenti andrò magari a fare return new date e a questo punto la creerò io a modo mio perché so che sto lavorando con quella che è una stringa quindi instance off ci permette di riconoscere da parte di quale costruttore è stato creato un determinato oggetto funziona anche appunto con le classi custom se crea una classe che si chiama gianni e gianni appunto va a creare delle istanze con l'istanza che è stato fatto da gianni compro un po' su quest'onda quindi di andare a individuare con che tipo di oggetto con che tipo di type esattamente stiamo lavorando con chi ci stiamo confrontando ecco che esiste un metodo per andare un po' a predire con che cosa andremo a lavorare quindi generare delle funzioni che ci aiuteranno a individuare il type con cui stiamo lavorando torniamo un po' all'esempio in cui siamo con il nostro fish e con il nostro bird in cui magari andiamo a commentare questa sezione perché in realtà non c'è bisogno di farlo però volevo portarlo o volevo portarlo giù i type possono anche essere portati giù rispetto alla definizione delle funzioni poi verranno portati in alto nel dal dal transpiling torniamo in questa situazione in cui appunto abbiamo bisogno di andare trovare un altro metodo per individuare se stiamo lavorando con un pesce oppure con un uccellettino ci serve però avere una funzione che noi possiamo riutilizzare tutte le volte che appunto differisca da questo ci serve qualcosa da utilizzare all'interno dei boolean if quindi creiamo la funzione function is fish dove andiamo ad accettare come parametro pet che appunto sarà un pesciolino o a sua volta un uccellino a questo punto io come faccio a come faccio a individuare che lui sia un pesce o un uccellettino prima abbiamo utilizzato l'inoperator quindi andavamo a controllare che esistesse una certa chiave sull'oggetto o l'ora esistesse noi siamo sicuramente in condizione di capire che stiamo lavorando con quel determinato type perfetto quindi ci basterà dire che per essere un pesce lui deve avere la proprietà pet dot su win che però typescript inizia a darci un errore questo perché perché lui si trova nella condizione in cui potrebbe avere uno di queste due istanze e questa proprietà non essendo condivise in entrambe i type ci viene segnalata come se non esistesse su questo oggetto perché non è solo di tipo fish a questo punto noi cosa possiamo fare possiamo andare ad aprire le parentesi e dire che pet es fish utilizzare questa scrittura si dice castare quando uno va a castare va non dico a forzare ma va a dire con certezza sicurezza che questo elemento pet sarà un fish a questo punto provando ad accedere ecco che io avrò swim a questo punto se questo valore non è undefined io sono sicuro di ritrovarmi di fronte a un pesciolino a questo punto la mia funzione è definita e se io andassi a utilizzare una funzione const move 2 2 qualora appunto fosse un fish e quant'altro se io andassi a utilizzare is fish ecco che mi ritrovo di nuovo all'interno di quello che è un errore ma come ho definito una funzione che apposta si assicura che sia di tipo fish controlla che esista la chiave qualora non lo sia appunto lui è sicuro che ritornerà quello che è un fish quindi questo controllo dovrebbe funzionare e darmi la garanzia ma come possiamo vedere quello che sta ritornando la nostra funzione è un booleano non sta ritornando in nessun modo il type qual è la soluzione in questo caso potrebbe dire di essere di ritornare fish si ritorna qua fish ottengo di nuovo un errore questo perché perché lui ritornerà di nuovo un booleano non un fish la soluzione è quella di dire che appunto pet is fish forzando questa scrittura vuol dire che questa funzione quando ritorna un booleano che sarà true andrà a garantire che esso sia fish quindi detto in maniera terribile trasferisce la veridicità della condizione booleana verso un type a questo punto lui sarà in grado di riconoscere quello che è un fish e ciò che invece è un bird ok questa è una soluzione abbastanza elaborata che non si vede così spesso però se per sbaglio vince un past in questa definizione sappiate che quello che state vedendo è esattamente cercare di avere delle funzioni predictive rispetto a un type con cui si sta lavorando ora andiamo a vedere altri operatori che ci possono aiutare nel restringere il campo o comunque andare a fare delle definizioni ulteriori dei nostri type se sono keyoff e typeoff operator keyoff volevo aprirlo non in questo modo ma in questo e questo no ho sbagliato e typeoff sono degli altri operatori che ci permettono di creare dei type e di scrivere dei type in base degli oggetti che sono già esistenti come potete immaginare keyoff si utilizzerà con quelli che sono prevalentemente gli oggetti e typeoff invece sarà un utilizzo differente dell'operatore di typeoff ora andiamo all'interno sempre il nostro file di narrowing e partiamo da nessuna delle due cose che vi ho appena detto se ad esempio io avessi un oggetto che si chiama variance in cui mi trovassi di fronte a magari sm e voglio che sia sm e md che sia md e lg che sia lg e così io voglio che queste assumano un valore costante quindi che sm sia sm come vedete in questo caso mi trovo con quelli che sono delle stringhe se io volessi che esse rimanessero appunto costanti quindi che sm potesse solo essere sm ecco che io posso andare a utilizzare quello che è sconst sconst come vedremo appena le avrò compilate tutte quante andrà a garantirci che il type in questo caso sia forzato quindi sm corrisponda proprio solo il valore di sm quindi se appunto volessi andare ad avere quello che è il valore espresso appunto in un type che vada a restringere solo verso solo questi valori quindi a partire da un altro oggetto ecco che utilizzerò la combinazione di questi due strumenti che adesso andremo a vederci insieme ma ora andiamo a vedere singolarmente questi elementi partiamo da quello che è un pochino più losco quindi se io avessi un type che si chiama point banalmente in cui mi ritrovo con quello che sono x e y che sono entrambi i numeri se io avessi appunto il type m facciamo una cosa a caso dico che di key of point se vado su m mi ritrovo con questa scrittura detto in maniera molto semplice m se dicessi appunto che let di type m posso dire che m tranquillamente è una x quindi assume questi valori mentre si z ecco che inizia a piangere quindi m può essere una delle chiavi dell'oggetto point ci sono diversi modi di utilizzare questo quest'operatore se ad esempio avessi quello che type person scriviamo cosa a caso se non importa person e vado a dire che ha quelle che sono x che sono delle stringhe possono essere delle stringhe o dei numeri ma anche appunto qualora fosse anche solo stringa non importa innanzitutto questa scrittura cosa vuol dire? vuol dire che se andassi appunto a definire un oggetto che si chiama person a me basta che vi siano delle chiavi che sono delle stringhe a cui venga associata una stringhe se io mettessi appunto surname e mettessi quello che è valore di 2 lui non andrebbe bene perché deve essere una stringhe non un numero questa scrittura appunto vuol dire che non so quante proprietà ma so che sono tutte delle stringhe se io appunto andassi a forzare e dire che voglio che type z sia uguale a key of di person ecco che mi trovo di fronte al fatto che sia una stringa o un numero ma come ho detto appena detto che una stringhe è scritto che una stringa può essere una stringhe un numero perché in javascript quando uno va a utilizzare una chiave che è un numero come vedete non si lamenta se vado a mettere poi uno si lamenta perché mi hanno messo la virgola lui non si lamenta come type perché appunto i numeri vengono automaticamente forzati a diventare delle stringhe quindi in poche parole siamo di fronte a questo tipo di scrittura anche se non lo sappiamo diverso è il caso in cui ad esempio person avesse qua quello che è il valore di number se qua avesse number io vado a forzare che lui sia un numero e quindi z diventa un number ok questo è a grandine l'operatore keyoff qui in cui va a dire che un certo elemento può assumere il valore il type assume il type o comunque il type assoluto rispetto alle chiavi di un oggetto per quello che è invece l'operatore typeoff abbiamo già visto che serve a restituire quello che è il type di un oggetto quindi si che const t è uguale non so sempre 3 se io vado a dire che const n typeoff dt e se una costante deve essere deve essere 3 mettiamo l'elettrico di un pochino più flessibile lui può essere finalmente una stringa quindi serve a permetterci di ottenere quello che è il typeoff di un determinato oggetto mettersi const sono un pochino più stretto perché se non è costante che si aspetta che t appunto sia 3 quindi serve anche a permetterci di associare a un certo valore quello che è il type di derivandolo da un'altra variabile o da un'altra costante quindi se tornassimo su in questo punto abbiamo la nostra variant un po' strana noi ci rendiamo conto appunto che variant altro non è che il typeoff di variant e poi va a estrapolare da ognuno di questi la singola chiave quindi il typeoff della singola chiave di variant non va a fare nient'altro a parte questa cosa so che sto dicendo sto facendo sembra una cosa scontata che so solamente che non sia però di per sé effettivamente poi a volte che si fa l'abitudine questi concetti diventano abbastanza semplici un'ultima cosa che non c'entra nulla ma è venuta in mente in questo momento che volevo fare vedere che se io avesse il mio type person 2 e abbiamo type array che è un array di numeri di number e io vado a dire che person e name string e age non importa non dire nulla questa cosa è di type r se io poi volessi dire che il type prova è uguale a person 2 io poi aprendo le parentesi quadre posso andare ad accedere alle singole props quindi questo diventa un array di numeri quindi prova assume questo valore se io volessi dire che è direttamente solo un numero che fa parte di age ecco che io posso nuovamente aprire le parentesi e scrivere number number sto dicendo che voglio passare a prova quello che è il valore che potrebbe avere un singolo elemento all'interno del mio array del mio array appunto di numeri ok posso accedere a tutte le props in questo modo posso andare avanti all'infinito con questa passi all'infinito con questa